Buongiorno a tutti, nella sessione del pomeriggio l'idea è fare un escursus su come la mobilità elettrica interviene nelle diverse sfaccettature che hanno a che fare con la città, quindi avremo un intervento da parte dell'amministrazione comunale che ci racconterà come viene pianificata alla mobilità elettrica, poi avremo interventi relativi ai vari servizi che intervengono all'interno della città, avremo la modalità sicuramente di come si ricaricano i veicoli elettrici, avremo esperienze rispetto al tema della logistica urbana, avremo anche analisi specifiche su come il mobility management può intervenire rispetto alla mobilità elettrica, oltre alle tematiche dell'automotive in generale. Quindi siccome siamo parecchi abbiamo diviso la sessione in due parti e quindi comincerei a chiamare Federico Confalonieri, Chiara Lazzaro, Luca Refrigeri, Silvia Verace e Valerio Vanacore. Grazie a tutti. Allora inizierei lasciando la parola a Federico Confalonieri del Comune di Milano che ci racconterà appunto come avviene la pianificazione della mobilità elettrica all'interno della città di Milano. Grazie Valentino e grazie a tutti. Buon pomeriggio. Ora io farò, adesso non so quanto tempo abbiamo ma comunque sarò abbastanza sintetico, spero. Vi racconto un po' di temi che Milano affronta ormai da un po' di anni legati appunto allo sviluppo e alla promozione della mobilità elettrica. Comincio, farò anche un po' di cronistoria perché secondo me è importante un po' inquadrare come siamo arrivati fino a questo punto e comincerei dal primo tema che è un tema un po' centrale che è quello legato all'infrastrutturazione pubblica della ricarica, un po' centrale un po' per l'attività nostra come amministrazione che ci impegna proprio in prima fila, in prima linea e un po' perché come sapete da sempre si dice che senza infrastrutturazione pubblica quello potrebbe essere un freno al sviluppo della mobilità elettrica anche perché tenendo conto che un po' più del 50%, oltre il 50% degli immobili milanesi non hanno box, quindi c'è un tema che è legato alla transizione verso l'elettrico, ci si deve porre inevitabilmente. Tornando un po' indietro, Milano affronta già diciamo 13 anni fa, era il 2010 circa, quindi pochi anni per noi, ma era geologica per la mobilità elettrica, affronta subito un po' il tema perché partecipa al bando che fece la loro autorità per l'energia elettrica e gas di sperimentazione in alcuni ambiti territoriali sul territorio nazionale di appunto varie modalità e tipologie di ricarica e a Milano con la 2A furono installate le prime 32 colonnine, 32 colonnine che quindi già da parecchi anni avevano iniziato a operare a Milano, adesso non so dirvi, immagino che all'inizio, io non mi occupavo ancora di mobilità elettrica all'epoca, all'inizio non fossero molto utilizzate però erano già un primo, erano portarsi avanti. Queste 32 colonnine nel 2016 rimangono sempre 32 ma 12 di queste vengono trasformate in fast perché erano tutte normal diciamo, quindi 50 kilowatt in corrente continua, in più ne vennero installate mi sembra un paio gli aeroporti di Malpensa e Linate, questo grazie al fatto che ci fu la Champions e lo sponsor Nissan all'epoca con la 2A fece questa iniziativa. Nel frattempo con un altro progetto che avevamo portato avanti in parallelo, insomma in quegli anni lì, intorno al 2013, realizzammo le famose isole digitali, famose per noi almeno che ci abbiamo lavorato perché ci hanno fatto sudare parecchio per installarle, però ci sono ancora in giro, sono isole digitali che erano dei luoghi che devono essere in qualche modo oltre che strutturati, luoghi nella città sul suolo pubblico, strutturati per la ricarica anche con tutta una serie di innovazioni tecnologiche, c'era il pallo della luce intelligente, c'era il wifi, c'era la possibilità di ricaricare i device, il cellulare e così via. È stata una sperimentazione, però questa eredità è rimasta. Diciamo che il primo momento in cui ci si accorge, quindi diciamo che fino al 2017 all'incirca questa era la disponibilità di Milano, 2017-2018, quelli sono gli anni in cui inizia a cadere qualcosa, cioè inizia a esserci un movimento rappresentato poi dai vari operatori, intanto vi dico a premessa che Milano in quegli anni, 2018, compie la scelta, ogni città si è mossa in maniera un po' diversa, comunque la scelta del libero mercato, vale a dire dice a qualsiasi operatore puoi venire a Milano e installare le colonnine seguendo una serie di regole che sono tra l'altro inserite in un disciplinare che è disponibile sul sito del Comune di Milano e che riporta tutta una serie di indicazioni per chi vuole installare colonnine. Intanto c'è un discorso di pianificazione di numero di colonnine massimo stimato all'epoca, ma poi su questo ora ci tornerò, che la città di Milano doveva in qualche modo far realizzare per avere un soddisfacimento complessivo della domanda. Questo numero era pari a 520 colonnine. Il disciplinare però contiene anche altre cose, contiene anche qual è l'iter approvativo, contiene quali sono le caratteristiche tecniche che poi erano riprese dalla norma, quindi PNIR, 257 e così via, e contiene anche delle modalità di erogazione del servizio che è richiesto come standard minimi, quindi interoperabilità e tutte queste cose qua che conoscete. Quell'anno lì inizia quindi a crearsi un movimento e iniziamo a ricevere delle richieste, tanto che ad oggi, quindi negli ultimi 5 anni, siamo passati dalle nostre 32 storiche, che erano lì come diciamo pionieri di questo mondo, ora siamo arrivati a 380 colonnine per 760 punti di ricarica. Sono dati di agosto, ma comunque diciamo adesso sono sicuramente aumentate di qualche unità, perché poi non sempre abbiamo in tempo reale la comunicazione di quando una colonnina si attiva. A volte viene realizzata e non si attiva perché ci sono problemi nel allaccio con il gestore della rete elettrica, che magari ha tempi più lunghi, però diciamo è un processo che sta andando avanti così, tanto che oltre alle 380 già attive o a giorni in fase di attivazione, ne abbiamo già provate altre 331 e quindi i vari operatori che all'incirca adesso, grazie a questa scelta di libero mercato, sono circa una quindicina che operano a Milano, quindi c'è una grande pluralità di soggetti, è chiaro ce ne sono alcuni che sono molto più, per le loro politiche industriali, molto più attivi e quindi con un numero di colonnine maggiori, altri che magari ne hanno messe 3, 4, 5, tra i 15 c'è anche uno o due alberghi che ne hanno messa una lì vicino al loro palazzo per dare un'opportunità di più ai clienti, tenendo presente sempre che l'installazione su suolo pubblico deve essere aperta a tutti, non può mai essere dedicata a qualcuno, deve essere una caratteristica di universalità, quindi chiunque può accedere sul suolo pubblico. Quindi diciamo siamo andati avanti e ora per dire come funziona un po' il fenomeno, adesso siamo a 380 colonnine e già 331 approvate, quindi nei prossimi 2, 3, 5, 6 mesi me le aspetto operative. Di queste tra l'altro vi do qualche altro dato, scusate non ho fatto slide perché non c'era tempo, diciamolo, e poi perché tra l'altro le slide invecchiano molto presto, quindi questi numeri sarebbero già superati fra un mesetto e fra un anno non avrebbero più senso. Sennò per un dato storico magari, per qualcuno che ha delle curiosità, vi dico che a marzo del 2022, cioè un anno e mezzo fa, eravamo a 167, quindi sono più che raddoppiate in un anno. Questo perché, poi ci torno, perché vi voglio raccontare un po' di cose, come in questi giorni sicuramente fantastici, noi tra l'altro come amministrazione di Milano, con tutta l'organizzazione Regione Lomardia, Camera di Commercio che ci ospita e tutta l'organizzazione, organizziamo EMOBA dal 2017, prima edizione, il Castello Sforzesco, poi andiamo in Regione e ora ci siamo trasferiti qui. Ma gli spazi, come avete visto, in Piazza Duomo per l'esposizione e così via, ovviamente sono forniti dal Comune di Milano. Questo per dire che siamo qui da tanto tempo e quindi ci crediamo molto a questo tipo di iniziative e sono convinto, e so che in tutti gli altri incontri ora abbiamo parlato di futuro, di cosa sta accadendo, di transizione, che tutto sta per partire, è tutto molto vero e giusto. Quindi ho pensato di fare una presentazione un po' non dico in controtendenza, ma a mostrarvi anche qualcos'altro, cosa vuol dire mettere una colonnina. Però intanto finisco questo escursus che vi inquadra un attimo un po' la situazione in generale. Ecco, abbiamo detto che questi numeri che vi ho detto superano già quella dimensione, quella capacità che si era stimata dagli 520 colonnine che è contenuta come indicazione nel piano urbano della mobilità sostenibile. Come sapete ogni Comune, soprattutto quelli grandi, si dotano di un piano urbano della mobilità, ora sostenibile giustamente. Il nostro è che è più o meno un orizzonte decennale come previsioni, è un piano che ha questa visione qui, quindi non come quello che è il piano urbano del traffico, che provvede il codice della strada, che è più nell'immediato, il suo punto all'orizzonte di due anni. Questo quindi è veramente un piano che guarda un po' quelle che devono essere le strategie della città. E all'epoca si stimò, nel 2018, approvazione del PUMS, si chiama così in gergo, l'acronimo, 520 colonnine. Però sulla base di riflessioni ancora antecedenti il 2018, perché approvare un piano come il PUMS richiede un sacco di tempo, una serie di passaggi, di coinvolgimenti col territorio. Diciamo che poi il piano l'abbiamo iniziato nel 2013. Esatto, quindi è un piano che, approvato nel 2018, ha 5 anni di gestione, di gestazione, di costruzione. Quindi chiaramente tutte quelle riflessioni lì erano ancora antecedenti il 2018. Quindi se il 2010 erano ere geologiche, il 2015-16 sono altre ere, un po' meno, ma comunque... Quindi questo numero ora noi lo andremo a cambiare, anche perché con Amat abbiamo sviluppato questo bellissimo lavoro, questo studio, che magari adesso lo rivedremo un attimo, perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso, ma a parte questo dettaglio, non può essere un dato quello della necessità di colonnine, dell'offerta di colonnine su suolo pubblico in una città cristallizzata, ma dipende chiaramente dall'evoluzione, dall'andamento del mercato, della tecnologia, di tutta una serie di fattori. Quindi all'epoca erano 520, ora la nuova stima sono 3500 punti di ricarica. Punti, attenzione, quando dico colonnine e punti fate sempre o per due o diviso due, comunque con i 3500 diviso due però viene dispari, quindi fa brutto, quindi ve lo dico il numero di punti di ricarica, va bene? Quindi noi entro la fine dell'anno rivedremo il nostro disciplinare, perché nel frattempo sono successe un po' di cose, al di là di questa che è abbastanza importante, cioè rifissare un nuovo obiettivo di offerta rispetto a una domanda che cresce sempre di più. Dobbiamo un po' modificare delle cose, che sono dei dettagli che a voi non interessano tanto, però nel frattempo noi abbiamo digitalizzato tutto il processo di approvazione, giusto per dirvi come fa, come funziona, come si approva una colonnina a Milano. Il proponente, quindi l'operatore, presenta un progetto, ora lo presenta direttamente su questa piattaforma. A un certo punto noi, quando raggiungiamo un certo numero di progetti presentati dai vari operatori, indiciamo una conferenza dei servizi, che è uno strumento fantastico, perché in una sola occasione consente di raccogliere tutti i pareri di, vi dico che sono un'ottantina di uffici, enti, soggetti che si esprimono. Dalla sovrintendenza, commissione del paesaggio, da tutti i soggetti che gestiscono le reti sotterranee, quindi acquedotto, fognatura, reti elettriche, gas, eccetera, eccetera, telecomunicazioni, che ce ne sono tantissimi, a altri che si occupano di sicurezza stradale, verde, ciclabilità, tutto quanto. Quindi, per dire, lì si raccolgono tutti, e se il parere è favorevole, miracolosamente ogni tanto qualcuno è favorevole e basta. Dico miracolosamente, ma poi ci torno su questa cosa, perché se no ci sono prescrizioni, se no viene bocciato. Se ci sono prescrizioni va avanti la revisione del progetto, finché non è tutto ok, allora va avanti. A quel punto viene rilasciata una concessione all'utilizzo del suolo pubblico per la ricarica elettrica dal nostro ufficio Occupazione Suolo. Con la concessione in mano, l'operatore va a fare i lavori, non è mica finita, prende accordi con la polizia locale, con il reparto strada, gli deve consegnare l'aria, devono accordarsi come fare il cantiere per evitare problemi, eccetera, eccetera, cosa che vivete anche voi, immagino, quando fate gli hub per la ricarica alle capolinea. E a questo punto fanno i lavori e finalmente a quel punto aspettano l'allaccio del contatore. Quindi tutto questo processo, se va bene, può durare tra i, diciamo, nel caso più fortunato, assoluto, che tutto combacia perfettamente, sei, otto mesi. Se no si arriva all'annetto. Questo per dire anche perché, come mai, eravamo a 167 a marzo 2022. Perché la fase inerziale che doveva muovere tutto questo, tenete conto che gli operatori erano abbastanza nuovi a installare colonnine, non esiste una professionalità specifica, si stanno formando adesso di installatori di colonnine su suolo pubblico. Cioè, uno, se vuole fare una casa, ha 100.000 architetti da scegliere, il ponte, cioè gli specialisti, la colonnina era una cosa abbastanza nuova. Quindi, anche tutti gli operatori, andare a trovare qualcuno che li aiuti nella progettazione non è stato facile. Anche perché poi adesso, andando avanti, si creano anche ulteriori temi da affrontare. Su questo ci arrivo. Nel frattempo, per finire la carrellata, ho parlato solo di colonnine. Se mi dici... Vorrei evitare di essere denunciato per sequestro di persone, siccome la giornata è lunga. È lunga. Allora, magari stiamo... Dimmi quanti minuti ho ancora che vedo di chiudere. Ancora cinque minuti. Cinque, dai, facciamo dieci. Va bene, comunque, sono cinque con il recupero, che adesso è molto lungo, come sapete, nel calcio. Allora, dicevo, finendo questo discorso qua sulla ricarica sul suolo pubblico, ovviamente Milano non si è fermato a questo, nel senso che l'attività di promozione e supporto allo sviluppo della mobilità elettrica ha diversi aspetti, ok? Si muove su diversi territori. Uno è quello della regolamentazione. Cioè, vale a dire, un grande supporto è stato tutti quelli che sono questi benefit che ha il veicolo elettrico rispetto alle ZTL. Mi riferisco a area B e area C, in questo caso ZTL, perché su quelle... Non apro un altro discorso perché ho troppo pochi minuti. Però, ecco, quindi sapete tutti che abbiamo la gratuità per l'ingresso in area C per i veicoli inferiori a 100 grammi CO2 al chilometro. La gratuità per la sosta su strisce gialle e blu, quindi residenti e sosta rotazione per i veicoli con meno di 50 grammi di CO2 al chilometro. Poi abbiamo una cosa che è stata molto utile, ma ci dovevamo pensare, per vedere magari se ampliarla un attimo per dare un po' una spinta. è stata quella di creare una finestra in area C, quindi nel centro storico dove ci sono un sacco di attività commerciali, di carico e scarico, dedicata solo agli elettrici, dalle 8 alle 10, se non ricordo male. E quello è stato un bel impulso, ma si può andare avanti. Cioè la raccomandazione può anche... non ha limiti, no? Se tu crei 4-6 ore in cui entra solo l'elettrico, è chiaro che spinge ancora di più. Quindi su questo bisognerà rifletterci. L'area B va bene, sapete che possono entrare per il momento, non sono gli unici, però sicuramente sono quelle che andranno più avanti. sullo sharing, sullo sharing, come sapete, i monopattini e i scooter sono tutti elettrici. Il bike sharing sul nuovo bando che sta per uscire ci sarà una premialità forte per chi propone flotte elettriche. E il car sharing dal 1 gennaio 2024 tutti gli operatori possono mettere nuove macchine in flotta solo se elettriche. Quindi anche questi sono strumenti molto importanti. Per finire la carrellata, finanziamenti sugli ultimi due anni abbiamo dato i finanziamenti che sono stati maggiori per le auto elettriche sul cambio del parco veicolare. Erano non solo le uniche auto elettriche finanziate, ma quelle elettriche avevano sicuramente una percentuale maggiore. Quindi c'era una convenienza maggiore a prendere l'elettrica. Sul TPL non dico nulla perché c'è l'ingegner Lazzaro che racconterà tutta questa bellissima storia nonché importante dell'elettrificazione di tutti i bus ATM. E non aggiungo nulla perché sennò mi accusano di spoilerare gli interventi precedenti, cosa che hai fatto anche tu l'altra volta. Ci sei rimasto male ma lo sai che non lo sapevo. E poi, vabbè, sul regolamento di inizio da tempo prevede che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di primo livello abbiano ad obbligo quello di infrastrutturare, cioè di creare le predisposizioni per le ricariche nei box. Detto questo, finisco con gli ultimi due minuti forse che ho per dire una cosa su, torniamo alle colonnine che ci piace questa cosa qua nel senso che no, comunque a parte gli scherzi è un argomento importante e su cui stanno lavorando in tanti. Mettere una colonnina a Milano è un'attività complicatissima perché se qui c'è qualcuno di qualche società operatori che mettono colonnine lo sa già. Ne abbiamo una in prima fila. ma per gli altri magari che non lo sanno vi spiego perché. Allora intanto vi dico 5-6 aspetti. Cioè quando tutti questi 80 soggetti che vi ho detto danno un parere lo danno perché hanno una competenza quella competenza ha la stessa dignità della mobilità elettrica. Poi si potrebbe discutere conta più il verde o la mobilità elettrica? Conta più una ciclavia o la mobilità elettrica? Penso che non usciremo vivi. da una discussione di questo tipo. Quindi bisogna per forza tener conto che siamo a pari dignità. E quindi queste competenze ci dicono delle cose. Per esempio un dato colonnine sono sempre più grandi anche perché si va sempre più insomma molto di più quelle normal però si va sempre di più verso le faste. Ora una faste anche da 50 kilowatt è in corrente continua senza arrivare a quelle oltre è alta 2 metri e 10 circa secondo dei modelli. ok? Poi c'è qualcosa di meno ma poi gli operatori hanno le loro e così via. Adesso voi immaginate mettere questa cosa qui con il suo armadio pontacontatore in un territorio altamente consolidato cioè in un quartiere diciamo che è un'urbanizzazione molto consolidata di case residenziali. Non è semplice. Arriva questo signore qua questo cattafalco che si piazza e non lo puoi mettere tra parentesi devi vedere quella realtà il contorno tutti i tavolini tavolini dei bar non glielo puoi mettere accanto quando lo metti devi consentire comunque un passaggio utile per i pedoni non lo puoi mettere davanti all'ingresso di una casa perché se no ti fanno subito causa questi escono vedono questo signore alto 2 metri e 10 e che hanno una certa larghezza e dicono ma perché non l'hai messo accanto? ma accanto non lo potevi mettere perché magari frammentavi la sosta e quindi creavi una situazione particolare oppure c'era un carraio insomma se prendete tutti questi aspetti qui ecco il discorso uno dice ma rispetto lo sviluppo della mobilità elettrica sì però attenzione si deve anche inserire c'è un contesto territoriale urbanistico che ha delle sue esigenze quindi questa cosa per i progettisti deve iniziare a diventare un tema è già diventato un tema perché c'è parecchia attenzione anche su questo aspetto che è un aspetto anche che è legato a come viene recepita la mobilità elettrica se tu crei una roba che dà fastidio in maniera evidente è chiaro che dopodiché non potremo avere dei fan degli amici della mobilità elettrica anche questo discorso va tenuto conto ma vi dico di più il verde il verde non si può scavare dove ci sono aiuole per aiuole si intende qualsiasi cosa che è depavimentata non occorre che ci sia un bel prato inglese o che ci sia una specie rara ad abbellire l'area verde anche quelle robe brutte che solo terriccio e verde non si può scavare e non ci si può mettere proprio per un discorso di accessibilità universale della colonnina e molti molti stalli di sosta dei 300.000 circa stalli di sosta su suolo pubblico che esistono tra gialli blu bianchi eccetera sono magari ricavati dove tu scendi il passeggero scende e praticamente si trova un 20 cm di cordolo e poi un'aiola ecco se un operatore chiede di mettere lì la colonnina gli verrà bocciata perché? perché potrebbe scendere cioè mentre tu con la sosta hai delle alternative non parcheggio lì parcheggerò nella via accanto con la colonnina non ho alternative perché se ce l'ho lì magari la più vicina è a 300, 400, 500 metri non è un'alternativa a quella colonnina lì in questo momento e quindi se io sto portando un disabile non posso farlo scendere lì accanto all'aiola in 20 cm di spazio quindi iniziamo a togliere anche tutti questi aspetti qua tutti i progetti di riqualificazione fortunatamente Milano è una città molto dinamica no? fortunatamente direi però anche lì si può discutere però è molto dinamica e quindi tutti i quartieri sono in continua riqualificazione vi cito solo tutto il progetto piazze aperte l'urbanistica tattica tutto il bando che è stato fatto davanti alle scuole adesso le scuole sono off limits per gli operatori di colonnine perché davanti alle scuole si faranno delle pedonalizzazioni perché la scuola diventa la centralità del quartiere e i ragazzi devono andare lì con i genitori e non trovare le macchine è giusto che sia così quindi non ci può essere una colonnina perché sennò dovrebbe esserci la macchina che ricarica no? piazzale Loreto per fare un esempio l'ultimo partirà una grande riqualificazione quante sono state bocciate che volevano mettersi lì? tantissime e così un sacco di altri posti le piste ciclabili piste ciclabili non in struttura ma leggere come si stanno facendo ora tante esempio ma anche qui non apriamo dibattiti perché ognuno ha la sua idea però il corso Buenos Aires via Le Monza e così via quindi sono solo segnate sono accanto alla sosta non ci può stare la colonnina quindi tutte queste cose qua l'operatore spesso non ha un quadro perché nessuno ha il quadro completo noi abbiamo raccolto tanti dati da dare agli operatori per orientarsi ma non puoi mai avere la certezza che in quel momento non si decida che un certo punto sia un punto di riqualificazione e quindi la colonnina verrà bocciata quindi lo sommiamo al verde lo sommiamo al fatto che la devi inserire ho finito c'è tutto il discorso della sicurezza stradale non ti puoi mettere alle intersezioni bisogna vedere la larghezza delle strade tutta una serie di aspetti e per finire c'è la disponibilità della rete elettrica cioè nessuno va a mettere una colonnina si deve fare una cabina di trasformazione perché lì una rete non riesce a portare l'energia necessaria tanto che la cabina non gliela proveremmo neanche perché non facciamo una cabina in mezzo ai quartieri così quindi se mettete sommate tutte queste cose i poveri operatori che devono fare i progetti fanno la caccia al tesoro questo ve lo dico perché forse nessuno dice ma bisogna sburocratizzare ma cosa sburocratizzi questa è la realtà dei fatti cioè hanno meno peso queste cose mi chiedo non credo allora dobbiamo ragionare un po' tutti assieme dobbiamo ragionare un po' tutti assieme e soprattutto prendere coscienza del fatto che questi aspetti qua sicuramente vanno tenuti conto quando si vuole sviluppare la mobilità elettrica chiaramente il mio non è e ho chiuso Valentino un discorso per dire oddio non facciamo le colonnine oppure non prendetelo così volevo dirvi una cosa che credo che nessuno vi abbia detto o vi dirà in questi convegni un po' perché chiaramente sono anche meno interessanti però secondo me completano un po' il quadro quando uno dice anche il cittadino si lamenta ma non è ancora arrivata la colonnina e sta arrivando ma per arrivare deve passare tutte queste prove che non sono burocrazia sono esigenze del territorio e chiaramente poi potrei andare avanti e dire che ovviamente ognuno ha le sue competenze e la sua competenza la vede sempre come la cosa principale rispetto alle altre forse se anche gli altri colleghi gli enti così via che esprimono ragionassero in un quadro di insieme più complessivo forse sarebbe più facile anche riuscire a inserire le colonnine però quello è un altro discorso e non ne finiamo più spero di avervi dato un po' una carrellata e avervi detto qualcosa magari di nuovo per voi se interessante è tanto meglio e vi ringrazio e lascio la parola a Fede ho una domanda anch'io volevo fare prima la mia poi lascio la lei allora mi sembra di capire che per quanto riguarda Milano lo dico perché ci abbiamo lavorato insieme l'idea vincente è stata quella di aprirsi al mercato detto questo tu hai evidenziato bene tutte le difficoltà legate al territorio per l'installazione delle colonnine ma anche soprattutto per l'individuazione dei luoghi più idonei per installare le colonnine quello che volevo chiederti è come facciamo poi ad evitare che le colonnine si concentrino nei luoghi dal punto di vista commerciale anche più appetibile e magari evitare che non ci siano colonnine nei luoghi meno appetibili dal punto di vista commerciale ad esempio le aree periferiche rispetto a questo tema c'è una risposta specifica che puoi dare sì ti ringrazio scusami una cosa che ho dimenticato noi nel disciplinare abbiamo indicato che c'è una ripartizione fra le diciamo tre cerchie ce ne sono di più in realtà ma vabbè quelle che abbiamo individuato noi sono la cerchia dei bastioni cioè quindi il centro storico tra la cerchia dei bastioni e la cerchia filoviaria quella della 90-91 che è un territorio molto densamente abitato e tra la cerchia filoviaria e i confini comunali e chiediamo a tutti gli operatori quando ci presentano le loro colonnine ovviamente in un quadro più complessivo perché loro hanno un progetto magari di mettere 100 colonnine non te le chiedono tutte subito magari iniziano da 20 così via che però nel quadro complessivo loro del loro investimento ci sia un rapporto 2-3-5 che abbiamo individuato tra l'altro anche lavorando con gli uffici di Amat 2-3-5 altrimenti avevamo visto soprattutto all'inizio che c'era la tendenza a concentrarsi molto nel centro dopodiché è chiaro che invece poi si è stata fatta anche un'altra ripartizione con i nuclei di identità locale sarebbero i quartieri quelli individuati da il PGT piano di governo del territorio sono no 88 88 macro quartieri in cui suddivisa Milano però anche lì bisogna stare un po' attenti nel senso che effettivamente ci possa essere anche il discorso del lab a volte può essere un'idea in determinati contesti territoriali o il discorso che di fronte a una particolare funzione molto attrattiva ci possa stare più di una colonnina anche quello è importante quindi bisogna un po' su questo non mettere troppi vincoli perché la realtà è molto variegata non la puoi come dire stratificare così in maniera così rigida però ecco in linea di massima il discorso 2-3-5 mi sembra molto positivo ok allora io lascio fare la domanda soprattutto perché non ho dato le regole di ingaggio siccome c'è una sessione finale con le domande poi le domande le terremo per la fine giusto un raccordo con l'oratore di stamattina che in quanto operatore ha sottolineato la lentezza dell'iter approvativo per l'installazione delle colonnine e qua mi sembra che da parte del comune di Milano ha dato la sua giustificazione un altro elemento che mi fa pensare quindi le faccio la domanda le faccio subito la domanda il comune di Milano sta passando da 320 a circa 800 nei prossimi due anni di colonnine installate siccome stamattina è venuto fuori una lamentela per quanto concerne le colonnine inerente il break even delle stesse cioè il pareggio dei costi perché pare che il pareggio dei costi si allontani sempre di più allora io le faccio la domanda avete fatto il punto sull'utilizzo di queste colonnine non vorrei che nei prossimi anni vi trovaste con cattedrali nel deserto grazie no allora sul va bene in realtà la sua domanda richiederebbe una sessione di lavoro però adesso poi mi sgridano però cerco allora vado subito al nocciolo sulla lentezza però voglio dire una cosa appunto l'ho chiarita ma non è una giustificazione quello che volevo dire sono i tempi come dire minimi cioè il problema è che nella fantasia spesso nel desiderata di tanti ci sono queste cose per cui un progetto si possa fare in stile americano in quattro mesi avrete visto ieri la trasmissione presa diretta immagino parlava di mobilità elettrica ho detto magari l'avete vista io l'ho guardata e c'era al solito paragone che in America arrivi e in quattro mesi costruisci una fabbrica va bene però facciamo i conti Milano città compatta un milione e trecentocinquanta mila abitanti circa in centottanta chilometri quadrati vedete voi cioè non è una cosa da poco con tutta una serie di comunque detto questo gli operatori ci forniscono i dati sì però su questo dobbiamo lavorare molto con loro è una cosa che non abbiamo ancora fatto perché siamo schiacciati dalla quotidianità oltre a essere diciamo come per subdipendenti del Comune di Milano una persona e mezza dedicati alla mobilità elettrica la mezza sono io poi fortunatamente c'è un collega che fa cento per cento mobilità elettrica io spero che Milano non segue il trend nazionale perché nel 2030 si parla di 4 milioni di macchine e invece Milano ha sempre dato e sta dando risposte su tutte queste cose quindi però tutti gli aspetti non si riescono a seguire completamente quindi noi abbiamo dei dati li abbiamo aggregati dati aggregati ogni x mesi che tra l'altro raccoglie Amat vogliamo arrivare a un altro tipo di come dire di substratto informativo cioè lo vogliamo avere in tempo reale vogliamo che tutti i cittadini li vedano in tempo reale questo è il punto da tendere io voglio sapere la colonnina in via San Gimignano se sta caricando o meno non solo perché sei libera perché ci vado a caricare io ma voglio sapere se sta caricando quanto carica in che tempo quanti kilowatt consuma e alla fine posso poter fare tutte le mie analisi questo è quello qui ci abbiamo già iniziato a lavorare devo dire che non tutti gli operatori sono stati interessati però diciamo le prime risposte non sono state positivissime ci dobbiamo lavorare un po' tutti assieme ok allora io adesso lascerei qui chiudiamo qui perché con il primo intervento abbiamo già accumulato un quarto d'ora di ritardo quindi a questo punto lascerei la parola a Chiara Lazzaro di ATM rispetto alla tematica proprio del primo servizio di cui parleremo questo pomeriggio un po' ho già spoilerato Federico però lascio la parola a Chiara mi sentite? ok allora avevo una presentazione non so se sia possibile condividerla perfetto perfetto allora da molti anni ATM è iniziato la conversione della flotta in bus elettrici e da molti anni dal 2017 e 2018 con i primi progetti abbiamo iniziato a sviluppare infrastrutture per la ricarica che non fossero derivate direttamente dai fornitori di autobus quindi infrastrutture dedicate alla ricarica di qualunque tipo di possibile fornitore di autobus e nel 2022 abbiamo fatto un po' il punto della situazione avendo già in esercizio 170 autobus ci siamo resi conto che avremmo potuto fare anche un pochino meglio nel senso che solo tramite l'utilizzo della flotta e l'esercizio abbiamo potuto avere dei ritorni di esperienza sulla vera necessità dell'impiego in potenza della flotta quindi diciamo in prima istanza grazie anche agli studi condotti col Politecnico di Milano abbiamo ipotizzato un sistema di night charge in deposito dedicato ai capolinea degli opportunity che dessero questo biberonaggio nelle 7-8 minuti di stop e una sala operativa che tenesse monitorato tutto il sistema successivamente però ci siamo resi conto anche che è possibile efficientare tutto il sistema quindi non dedicare la medesima potenza di dimensionamento come potenza impegnata questo l'abbiamo fatto in più modi diciamo in maniera abbastanza semplice con i calcoli elettrici andando a vedere quali erano gli effettivi consumi degli autobus e banalmente qual era la SOC dell'autobus a rientro in deposito la sera poi abbiamo sviluppato dei sistemi il primo è stato inserito nel deposito di SARCA di energy management system che consentano di far partire barra interrompere la ricarica su ogni singola colonnina a seconda della necessità di uscita dell'autobus e quindi di fatto in maniera abbastanza brutale dia un taglio in potenza dalla rete per consentire di modulare meglio le ricariche e questo tutto a beneficio ovviamente del dimensionamento dell'infrastruttura che ci viene ad alimentare che è quella del fornitore che diciamo sta affrontando con questi mutamenti comunque sostesso grandi difficoltà non per ultima anche questa capillarità della bassa tensione diciamo in giro per la città comunque i limiti sono tanti a livello infrastrutturale in più abbiamo iniziato una sperimentazione nel 2020 con il BES presso il deposito di San Donato che è un battery energy storage system che consente di prelevare ricaricare pacchi di batterie per ora veramente limitati 300 kilowattora sperimentali e di diciamo bloccare quindi fermare l'assorbimento dalla rete nei momenti di maggiore picco e comunque di proseguire con l'alimentazione degli autobus abbiamo poi iniziato a studiare i sistemi vehicle to grid questo per ora nei primi capitolati dando indicazioni ai vari competitor di prevedere i sistemi compatibili e abbiamo iniziato a fare degli studi sul second life delle batterie incontrando i primi problemi nella comunicazione con i pacchi batterie on board e quindi inserendo nei capitolati delle nuove forniture di autobus l'indicazione al fornitore di dover condividere il linguaggio macchina per poter colloquiare con le batterie e garantire la sicurezza perché dai nostri primi esperimenti di fatto riusciamo a utilizzare in second life le batterie di trazione per lo storage ma il problema è la sicurezza quindi una comunicazione efficace e un controllo corretto nell'avanzare comunque dell'elettrificazione un secondo tema che si è posto è stato quello degli spazi perché in molte situazioni lo spazio necessario per posizionare un autobus in rimessa in una posizione postazione di ricarica occupa almeno il 20% dello spazio in più per questo nella conversione dei depositi ci si è resi conto della necessità di dover costruire nuovi depositi è il come diciamo la scelta che abbiamo fatto di concerto col comune di Milano la chiave di volta nel senso del minimo impatto ambientale sia i depositi di Toscana che quello di Triboniano che per ora sono i primi due avranno comunque un'autoproduzione ovviamente limitata a quelli che sono gli spazi stiamo cercando di ottimizzare l'occupazione di suolo mantenendo comunque a Toscana tutta la parte diciamo all'aperto sarà un deposito semi interrato all'aperto comunque fruibile al pubblico e a verde e a Triboniano avremo delle pensiline che saranno parzialmente verdi e parzialmente a pannelli fotovoltaici questo questo basso impatto è di fatto il nuovo modo diciamo il modo in cui noi vogliamo elettrificare adesso Milano quindi si diceva prima che l'elettrificazione può andare in contrasto col verde può andare in contrasto ecco noi stiamo cercando di fare in modo di rispettare il più possibile nei limiti di quelli che sono ovviamente gli spazi e le tecnologie ma comunque di fare autoproduzione mantenere a verde o riportare a verde aree che in questo momento non lo sono questo efficientamento energetico della flotta non si limita soltanto diciamo agli autobus ma è stato riportato anche nei capitolati dei filobus che fino a poco tempo fa erano comunque acquistati con piccole batterie endotermiche a bordo per dare un certo livello di autonomia soprattutto nei lavori che vengono fatti sulla rete filotranviaria attualmente vengono acquistati solo autobus con batteria a bordo che diano quel punto quell'autonomia che ci consenta di essere flessibili rispetto alle esigenze dei cantieri ma comunque sempre al 100% elettrici e ultimo aspetto su cui mi vorrei focalizzare è il fatto che questo nostro ritorno di esperienza nella città di Milano ci ha consentito di insomma di condividere quelli che sono degli aspetti fondamentali sia a livello di sostenibilità che di efficientamento energetico che di sviluppo proprio delle soluzioni di deposito con l'istituzione di questo consorzio full green in questo momento con le città principalmente di Roma e Napoli e quindi di creare dei team multidisciplinari e anche diciamo scorrelati a quella che è la realtà della città di Milano ma affrontando nuove sfide soprattutto diciamo in ambienti molto diversi ma anche da un punto di vista geologico geotecnico piuttosto che a livello di vincoli quindi l'inserimento di quelle che sono tutte le infrastrutture in città che hanno diversi livelli di complessità e quindi si sono appunto sviluppate queste collaborazioni su tutti gli aspetti ovviamente non solo quelli correlati strettamente al full electric ma in generale a tutti quelle che sono le esperienze dei vari tpl grazie è interessante poi vedere appunto che l'esperienza maturata su Milano poi venga messa in condivisione con le altre città proprio per evitare che le altre città magari affrontino da capo certi errori magari fatti da noi certo ma avendone anche una crescita perché ci sono molti aspetti che come ingegneria non abbiamo mai affrontato a Milano mentre sono magari molto attuali in altre città quindi è una crescita reciproca sia non solo da un punto di vista tecnico ma anche gestionale amministrativo diciamo che la municipalità di Milano ha diciamo già assorbito l'idea e anzi è stata promotore dell'idea del full electric e la stessa cosa anche le altre agenzie di TPL dovrebbero portare avanti e insomma sviluppare coerentemente diciamo siamo stati i primi adesso condividiamo ecco nelle tue slide abbiamo visto nelle prime slide abbiamo visto gli opportunity charge hai parlato di opportunity charge abbiamo visto delle dimensioni geometriche piuttosto importanti e immagino anche delle potenze piuttosto importanti riallacciandosi a quello che evidenziava Federico prima rispetto alle difficoltà quali sono state le principali difficoltà che avete affrontato nell'installazione degli opportunity charge e poi molto brevemente abbiamo capito che diciamo il cambiamento di tutta la flotta bus elettrici che state portando avanti che arriverà a 1200 bus elettrici è per alcuni aspetti la punta dell'iceberg che si vede dietro c'è tutto un lavoro legato al diciamo ai depositi che state realizzando quindi a questo punto volevo capire a che punto è il piano di sviluppo di questi depositi Allora per quanto riguarda gli opportunity charger a parte le medesime diciamo problematiche affrontate per le colonine auto quindi ovviamente disponibilità del suolo sotto servizi impatto anche dal punto di vista dei cittadini che insomma sono più di 5 metri e quindi diciamo l'impatto estetico allora sull'impatto estetico è stato fatto un grande lavoro con il comune di Milano proprio per dare un segnale alla popolazione e ai cittadini comune quindi l'estetica è stata studiata intanto al senso la tematica invece importante era relativa alle potenze noi attualmente ricarichiamo a 200 kilowatt e gli autobus prossimi 18 metri saranno a 300 kilowatt e questa è una potenza che in bassa tensione non viene erogata dal distributore però a Milano abbiamo la fortuna di avere una rete filotramviaria capillare con una grande distribuzione di cavi di potenza che arrivano dalle medesime sottostazioni che alimentano i tram e le filovie e quindi abbiamo studiato un sistema sempre partendo da studi congiunti col Politecnico di Milano per riuscire avendo già la corrente continua sulla rete filotram a convertirla diciamo comunque in un sistema DC-DC quindi anche molto compatto in termini di spazio senza andare a richiedere ulteriori forniture o comunque creare cabine di media tensione che a Milano sarebbero state difficilmente inseribili la seconda soluzione quando siamo lontani dalla rete filotram è utilizzare le medesime forniture che abbiamo in metropolitana diciamo senza ovviamente toccare la rete metropolitana ma semplicemente utilizzando le cabine di trasformazione le cabine di media tensione e invece il piano di sviluppo dei depositi molto brevemente abbiamo elettrificato quasi completamente il deposito di Sarca stiamo portando avanti l'elettrificazione del deposito di Giambellino il primo segnale è stato il green wall la parete verde che appunto dava un segnale di apertura alla cittadinanza il primo a essere elettrificato è stato il San Donato come laboratorio in cui abbiamo provato vari fornitori diversi e adesso stiamo completando le opere civili per elettrificazione del deposito di Palmanova che sarà pronto l'anno prossimo e sarà il primo deposito in Italia con la ricarica totalmente a pantografo quindi ci saranno nel piazzale C quello che ha una conformazione geometrica adeguata 50 pantografi con 50 autobus che saranno ricaricati diciamo dall'alto grazie allora noi sappiamo chi utilizza lo sharing considera lo sharing anche un po' come la porta d'ingresso rispetto alla mobilità elettrica immagino che se alziamo la mano quelli che hanno la macchina elettrica avremo numeri relativamente bassi probabilmente se chiediamo a qualcuno se ha mai guidato un veicolo elettrico probabilmente è un veicolo in sharing quindi chiederei a Luca Refrigeri magari di farci un quadro più a livello nazionale rispetto appunto all'elettrificazione dello sharing ok buongiorno buon pomeriggio a tutti innanzitutto grazie per l'invito insomma con l'osservatorio della sharing mobility ci teniamo sempre a partecipare a questo tipo di convegni io avrei una presentazione ok così vi faccio intanto vedere subito qualche dato di orrenda schippiamo subito la copertina in orrende giustizia la grafica del convegno vi faccio vedere qualche dato intanto di contesto della sharing mobility per capire a che punto siamo in Italia in particolare quando parliamo di sharing mobility qui ci riferiamo a un pezzo della sharing mobility che chiamiamo vehicle sharing cioè quei servizi che mettono in condivisione degli utenti dei veicoli e quindi servizi di car sharing servizi di scooter sharing bike sharing e monopattino in sharing e qui vediamo intanto partiamo subito dalla domanda dei servizi di vehicle sharing in Italia nel 2022 il 2022 è stato un anno molto positivo per i servizi di sharing mobility dovuto anche soprattutto alla fine dell'emergenza pandemica e quindi a un ritorno ai livelli di mobilità simili a quelli pre-pandemia cosa di cui ovviamente ha giovato anche la sharing mobility i noleggi nel 2022 sono 50 milioni più 41% rispetto a quelli dell'anno precedente anche in termini di percorrenze chilometriche l'incremento è stato importante più 46% con 195 milioni di chilometri percorsi su servizi di vehicle sharing in questa slide vedete invece la partizione dei noleggi e delle percorrenze secondo appunto i servizi di vehicle sharing che abbiamo detto prima quindi vedete l'evoluzione dal 2019 al 2022 in particolare potete vedere la fotografia al 2022 appunto la maggior parte dei noleggi il 50% la metà quindi sono noleggi di monopattino che se sommati ai noleggi effettuati in bike sharing e scooter sharing che fanno l'87% di tutti i noleggi della sharing mobility quindi effettuati su veicoli di micromobilità quindi veicoli che pesano poco occupano poco spazio e che come vedremo poi adesso sono tutti elettrificati questa cosa ovviamente non si riflette in termini di percorrenze visto che l'automobile ovviamente è un veicolo utilizzato per fare diciamo più strada e quindi noleggi più lunghi rispetto ai veicoli più ai veicoli appunto di micromobilità questa cosa si riflette anche in un aumento dell'offerta dei servizi di vehicle sharing in termini di servizi attivi nel 2022 211 contro 190 e qui entriamo un po' invece appunto nel diciamo nel vivo del discorso dell'elettrificazione quando parliamo invece della flotta la flotta è cresciuta del 27% tra il 2021 e il 2022 e siamo nel 2022 arrivati a 113 mila veicoli in condivisione in tutta Italia la flotta che appunto nel 2022 si ripartisce in questo modo noi parliamo di qualità ecologica della flotta in condivisione nel 2022 ovviamente perché come vedete dalla torta più piccola a destra il 97% di questa di questa flotta è costituita di veicoli a emissioni zero perché appunto veicoli elettrici o veicoli a trazione ovviamente muscolare come appunto una parte ancora del bike sharing che come vedete tornando nella torta di sinistra rappresenta il 16% dei veicoli complessivi parlando invece di elettrificazione l'81% della flotta in sharing è composta da veicoli 100% elettrici le auto di conseguenza con motore termico del car sharing in questo caso l'unico servizio che utilizza questo tipo di veicolo è fermo al 3% nel 2022 due punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente questo una piccola puntualizzazione anche rispetto a quello che diceva anche prima il dottor Confalonieri che si vede rispetto alle flotte del bike sharing come stanno cambiando rispetto ad un aumento complessivo quindi dal 2021 al 2022 siamo passati da 27.000 biciclette a 48.000 biciclette vedete anche la percentuale di e-bikes che è passata dal 40% nel 2021 al 60% nel 2022 quindi anche qui vediamo un incremento nell'elettrificazione anche delle flotte in bike sharing torniamo però invece facciamo un piccolo passo indietro e torniamo invece a parlare del car sharing di quel 3% dunque che invece è il pezzo di flotta che invece è aggredibile dal punto di vista dell'elettrificazione anche qui vi do prima un paio di dati sulla domanda del car sharing giusto per contestualizzare il servizio e vedere come stiamo andando qui vediamo i dati sulla domanda del car sharing free floating i noleggi sono cresciuti del 7% nel 2022 il grafico alla vostra sinistra le percorrenze sono cresciute del 33% come vedete però dal punto di vista dei noleggi siamo molto lontani dai livelli pre-pandemia meno 50% quindi dal 2019 al 2022 allo stesso tempo invece le percorrenze chilometriche crescono questo è un dato significativo che ci fa vedere come i servizi di car sharing dato anche l'aumento dei servizi di micromobilità e dunque servizi utilizzati di più diciamo dagli utenti all'interno delle città stanno un po' i servizi di car sharing spostando forse il loro focus su segmenti di clientela e quindi tipologie di noleggio leggermente diversi più lunghe con durate maggiori rispetto invece a noleggi più brevi qui vediamo invece la domanda relativa al car sharing station based quindi i servizi diciamo in cui le macchine hanno delle postazioni all'interno della città e vengono pre-noleggiate e ritornano poi nella stessa stazione e qui la domanda ha una leggera crescita sia in termini di noleggi che di percorrenze anche se appunto se vedete il numero di noleggi parliamo comunque di una quota abbastanza marginale insomma tutto sommato rispetto al dato complessivo questo appunto è per sottolineare ancora di più come la durata del noleggio medio del car sharing free loading e station based stia salendo dunque il discorso che facevamo prima sul tipo di noleggio che oggi è più frequente per quanto riguarda il servizio di car sharing e questa è la flotta la flotta del car sharing free loading nel 2022 è scesa del 13% 4,6 mila veicoli contro 5,4 mila mentre quella dello station based è cresciuta leggermente soltanto di 100 veicoli il tasso di elettrificazione è cresciuto dal punto di vista del car sharing free loading e anche per quello che riguarda invece la flotta del car sharing station based che arriva a circa il 60% questo è invece un focus proprio sulla flotta del car sharing italiano quindi diciamo le automobili completamente elettrificate sono 2660 il 44% la maggior parte la ripartizione per segmento vede una maggioranza di automobili appunto tra il segmento A e il segmento B e un costo medio di circa 28 mila euro le novità che abbiamo segnalato nel 2022 per quanto riguarda soprattutto tutti i servizi elettrificati si segnalano a Bari con un car sharing free floating con 31 quadricicli il car sharing e Ziti aperto appunto a Milano 450 a Bev e mentre anche il car sharing e di Enjoy sta introducendo nella flotta l'Exev e Yoyo che sono dei quadricicli pesanti questo insomma per quanto riguarda un po' le novità in conclusione dunque quello che possiamo dire è che appunto la sharing mobility per quanto riguarda sicuramente il comparto dei servizi di micromobilità la micromobilità quindi monopattini scooter e biciclette sono servizi che naturalmente arrivano già elettrificati nascono come servizi elettrificati sono semplici da gestire e sono più convenienti nel car sharing quindi abbiamo visto invece che c'è uno spazio ancora di elettrificazione il 56% della flotta esistente cosa che chiaramente sarebbe assolutamente auspicabile ovviamente bisogna fare i conti diciamo in questa transizione quindi in questo processo di elettrificazione con un momento diciamo del car sharing come tipologia di servizio non brillante dal punto di vista della redditività gli operatori insomma stanno cercando diciamo di oggi come oggi di far quadrare un po' i conti soprattutto con questa micromobilità che sicuramente risolve tanti problemi ma è molto aggressiva su una tipologia diciamo di mercato che prima era un mercato diciamo più ricco per il car sharing diciamo e dunque tutto questo chiaramente dovrebbe essere dal punto di vista dell'osservatorio insomma auspichiamo che sia appunto un processo sia un processo di elettrificazione magari sostenendo sia da un certo punto di vista la domanda una domanda quindi che premi gli utenti che scelgono veicoli elettrificati sempre riferendoci al car sharing ma anche ovviamente anche dal punto di vista dell'offerta dunque incentivi all'elettrificazione incentivi ovviamente per le infrastrutture di ricarica dedicate agli operatori e anche ovviamente possibili magari vantaggi fiscali per cui i servizi di car sharing 100% elettrici equiparandoli ad altri servizi di mobilità questo insomma è un po' come noi dell'osservatorio vediamo la prospettiva del car sharing e dell'elettrificazione nella sharing mobility allora tornando un po' indietro nella slide ma senza percorrere no ma non è ok tu hai detto che si sono ridotti i numeri di noleggi è aumentato il tempo del noleggio e a un certo punto hai detto che sono aumentati anche i chilometri allora secondo me bisognerebbe fare affondare un attimo per capire se il numero di noleggi si è ridotto perché essendo aumentato il tempo e quindi conseguentemente anche i chilometri la flotta l'offerta non è più sufficiente ad offrire la stessa risposta alla domanda che magari c'era in precedenza sappiamo tutti che il 2019 è stato un po' l'anno di demarcazione e quindi non siamo ancora tornati ai numeri che avevamo nel 2019 la seconda questione che volevo affrontare è sempre legandomi a quello che diceva Federico in cui ha annoverato uno dei temi del bando sul car sharing di Milano in cui obbliga a tutti i nuovi inflottamenti dal primo gennaio 2024 ad inserire solo ed esclusivamente veicoli elettrici allora rispetto a questo aspetto volevo capire se a livello nazionale ci sono altre città che si stanno spingendo per l'obbligatorietà hai citato proprio i costi i costi logistici anche per la ricarica le altre città cosa stanno facendo sicuramente c'è una tendenza poi come sappiamo sui bandi ovviamente c'è una tendenza a emulare quella del car sharing sicuramente è una altri comuni stanno già riprendendo appunto l'obbligatorietà proprio per addirittura ci sono anche anche dei tavoli di lavoro aperti al ministero che prevedono anche nei diciamo nelle l'obbligatorietà di avere flotte elettrie per i servizi diciamo pubblici quindi car sharing station base a livello comunale eccetera questo chiaramente come ho detto prima è auspicabile dal punto di vista dell'elettrificazione delle flotte però il problema è riuscire per gli operatori a far quadrare ovviamente i conti ovviamente ci sono anche altre tipologie di incentivi che si possono dare che possono essere indiretti quindi favorire per esempio l'accesso all'interno delle ZRATL utilizzo delle corsi preferenziali lo spazio all'interno delle città per i veicoli di car sharing tutto questo sono chiaramente vantaggi che possono dare dal punto di vista dell'offerta vantaggi che si possono dare dal punto di vista dell'offerta ai servizi di car sharing quindi favorirli ricordo infatti rispetto a questo aspetto che tutti i veicoli di car sharing che svolgono il loro servizio sulla città di Milano pagano 1200 euro all'anno per ogni veicolo e questo serve sia alla sosta a ripagare sia la sosta sia l'ingresso in area C i veicoli elettrici in questo momento non pagano questi 1200 euro esatto e questo è appunto un vantaggio che si dà appunto se si vuole ottenere questo livello di elettrificazione appunto agli operatori di car sharing ovviamente ok allora adesso passerei la parola a Silvia Verace di A2A A2A Mobility giusto? sì i Mobility e nello specifico ci racconterà di un progetto innovativo che stanno avviando o in alcuni luoghi l'avete già avviato Milano state per avviarlo giusto? sì buongiorno a tutti volevo vedere se partirà la presentazione appunto io lavoro per A2A Mobility che è la società del gruppo A2A che penso conosciate tutti che opera nel modello mobilità elettrica A2A Mobility è stata fondata a partire dal 2021 quindi a un paio d'anni è nata con l'obiettivo di investire sempre di più nel settore della mobilità elettrica dove A2A già operava a partire dal 2021 dal 2011 con la rete sperimentale che il collega del comune di Milano raccontava all'inizio di questa plenaria di oggi oggi noi gestiamo circa 2000 punti di ricarica su tutto il territorio nazionale con un focus sicuramente in Lombardia dove siamo partiti ma con l'obiettivo di essere presenti su tutto il territorio appunto in linea con le strategie di A2A che appunto oltre ad occuparsi di mobilità elettrica si occupa di generazione di energia distribuzione ciclo idrico gestione dei rifiuti e lo fa in maniera estensiva appunto in tutta Italia questa presentazione di oggi parte diciamo fa un po' il giro largo parte da questa slide che non vuole spaventare nessuno ma ci racconta quello che è oggi la qualità dell'aria in Italia in Europa ed in particolare in Italia e ancora di più nel nord Italia ed è il punto di partenza penso anche dalla quale è partita l'Unione Europea qualche anno fa nella definizione degli obiettivi di decarbonizzazione il tema dell'elettrificazione dei trasporti e della mobilità in genere penso che nasca da questa mappa e penso che per quanto sia chiaramente oggetto di dibattito perché diciamo tutti i cambiamenti portano con sé dei punti di vista o comunque delle considerazioni a volte contrapposte e penso e come a 2A pensiamo che ci siano dei dati incontrovertibili è il tema della qualità dell'aria e dell'inquinamento legato al mondo dei trasporti e sia sicuramente un aspetto che diciamo ci può mettere tutti d'accordo e dal punto di vista della conversione del parco circolante in un parco circolante elettrico e dei benefici che questo può portare dal punto di vista ambientale quello in cui noi crediamo volto in questo contesto infatti non solo a 2A o meglio a 2A si inserisce in una visione sicuramente europea e nazionale che è quella del carbon neutrality al 2050 per raggiungere questo obiettivo non si può che passare dall'elettrificazione in generale dei consumi in particolare per il tavolo di oggi sicuramente della mobilità e sicuramente questo diciamo si inserisce negli obiettivi del PNIEC che sono stati recentemente illustrati è che all'interno dei quali binari all'interno dei quali ci muoviamo come a 2A i mobility per nel momento in cui diciamo investiamo sui territori questo anche per rispondere alla domanda in precedenza vero è che l'asticella si alza che la crescita attesa no questo no quello sì assolutamente però in qualche modo noi con i nostri investimenti perché facciamo poi una scommessa cerchiamo di supportare questo cambiamento e lo dobbiamo fare in maniera sicuramente progressiva sicuramente scommettendo in un orizzonte temporale a 10 anni dove tutto il contesto diciamo geopolitico mette sempre un po' a dura prova le aspirazioni degli operatori di questo settore inoltre diciamo un focus particolare va fatto sul tema dell'elettrificazione dei contesti urbani dove diciamo che il tema dell'elettrificazione rientra in uno scenario più ampio di pianificazione che sicuramente prevede la riduzione del trasporto privato in favore di quello appunto in sharing come ci hanno descritto ovviamente in avvantaggio in qualche modo con una sharing modale più orientato sul trasporto pubblico e sulla micromobilità quindi diciamo andiamo a rispondere a una domanda che sicuramente decresce quindi quella del trasporto privato o della logistica dell'ultimo miglio con veicoli che auspicabilmente saranno sempre più piccoli e sempre più efficienti in questo contesto con degli obiettivi di elettrificazione sfidanti perché come ci dicevano appunto all'inizio realizzare centinaia o migliaia di punti di ricarica nei contesti urbani ci pone di fronte a delle criticità che sono intanto l'impatto della nostra azione nel senso che realizzare dei manufatti distribuirli sulle nostre città nei marciapiedi nelle strade dove coesistono un sacco di altre funzioni è un tema che diventa sempre più centrale il tema dell'adeguamento delle reti elettriche perché ovviamente nel momento in cui si realizzano infrastrutture con una potenza di cento kilowatt che equivalgono a quattro palazzi questa domanda di energia va capito come gestirla come distribuirla oltre che il tema della riduzione della sosta cioè realizzare una stazione di ricarica comporta sottrarre due stalle di sosta alla cittadinanza i contesti urbani soprattutto nei contesti urbani densamente popolati la domanda di sosta è sempre alta quindi dobbiamo far fronte anche a questa criticità in questo contesto A2A dopo decenni di esperienza è l'avvio di una linea di innovazione di una progettualità di innovazione all'interno della propria azienda ha sviluppato proprio all'interno delle mura dei nostri uffici un prodotto innovativo che mira a rispondere a questa domanda adesso descriverò brevemente i vantaggi di questo tipo di soluzione che noi abbiamo chiamato la colonia a basso impatto o la ricarica di quartiere cioè si tratta di un oggetto che vuole svolgere la funzione appunto di colonia di ricarica ma che vuole rispondere a tutte le esigenze che un contesto urbano ha in termini di appunto occupazione di spazio impatto sulla rete preservazione che non so se è il termine corretto comunque della sosta e anche il tema dei cantieri e della logistica urbana nel senso che l'obiettivo è prima di tutto cercare di minimizzare le risorse a tutto campo queste sono due infrastrutture tipo che noi installiamo oggi quindi abbiamo l'infrastruttura ultra fast che è un'infrastruttura che come dicevamo all'inizio misura due metri per uno è un armadio piuttosto grande che inevitabilmente ha bisogno di spazio e non può essere installata dovunque sulla destra abbiamo una colonina tipica che è quella in corrente alternata che installiamo oggi in città in questa slide mostriamo la differenza in termini di volume occupato tra le diverse infrastrutture quindi abbiamo la colonina che chiamiamo colonina fast quindi quella che abbiamo visto all'inizio il nostro obiettivo a tendere era il disposore della sosta tutto a destra diciamo ci siamo quasi arrivati con la colonina city plug che è praticamente in termini di volume pari alla metà di una colonina quick che è già abbastanza piccola che su Milano immagino che molti l'abbiano vista è ben il 90% o meno rispetto ad una colonina fast quindi in termini del nostro principale obiettivo quindi quello della salvaguardia dello spazio urbano e della tutela anche dell'aspetto paesaggistico dei nostri contesti urbani ci siamo quasi arrivati in questo slide infatti è un rendering di quello che potrebbe essere lo scenario futuro le city plug neanche si vedono e questo per noi diciamo era l'obiettivo che volevamo raggiungere dal punto di vista energetico queste infrastrutture che abbiamo ipotizzato hanno un grosso vantaggio attraverso e grazie al dynamic cloud management quindi un sistema innovativo di distribuzione dell'energia sulle prese di ricarica a parità di potenza di contatore cioè 30 kilowatt riusciamo ad alimentare in maniera dinamica sette prese immaginiamo partendo dal presupposto che proprio sulla base dei dati delle nostre colonine già installate noi oggi vediamo che la potenza media su una ricarica quick cioè quella che vediamo in questa slide a sinistra è pari a 3 va dai 3 ai 7 kilowatt le colonine quick sono dimensionate per una potenza pari a 22 kilowatt per punto di ricarica quindi c'è sicuramente un eccesso di domanda di energia che viene saturata in realtà senza averne realmente bisogno proprio per questo abbiamo pensato ad un sistema di ricarica a bassa potenza distribuita che tuteli in qualche modo la disponibilità di potenza delle nostre reti e che sia quanto più efficiente possibile analogamente in termini di cantieri soprattutto in una città nelle città del nord dove avvengono tante cose tanti eventi tanti cantieri è importante cercare di ridurre minimizzare il più possibile l'impatto della realizzazione di queste opere per questo a parità di punti di ricarica si riduce dell'85% il numero di cantieri necessario per realizzarle con questo tipo di infrastruttura ed in più abbiamo sviluppato uno strumento di pianificazione strategica delle localizzazioni che prende come una serie di dati che produciamo sia internamente attraverso l'erogato delle nostre infrastrutture che sicuramente è un punto di partenza importante insieme a dati di traffico dati di geoanalisi per la distribuzione il numero di infrastrutture esistenti pianificate nostre e degli altri operatori in maniera tale da fare una pianificazione che sia quanto più intelligente possibile e con l'obiettivo che attendere cerchiamo di raggiungere di arrivare alle conferenze dei servizi con delle soluzioni quanto più vicine alla soluzione definitiva poi sicuramente a questi layer informativi possono essere aggiunti tanti altri layer che sono specifici dei territori come diceva all'inizio il collega del comune di Milano con falonieri i dati che riguardano la rigenerazione urbana quindi la mappa che identifica i cantieri previsti le piste ciclabili e qualsiasi altro layer informativo che dà informazioni sull'uso del suolo non può che essere utile a chi fa questo mestiere cioè noi come operatori nel mondo della mobilità elettrica per pianificarle in maniera coerente sia con la domanda che con le esigenze del territorio questo progetto si inserisce anche in un'ottica di pianificazione della città dei 15 minuti proprio perché capiamo perfettamente che si tratta di un servizio che noi immaginiamo di proporre in maniera estensiva ai territori e in questo modo ci immaginiamo che ogni quartiere con dei raggi di circa 400 metri quindi con 5 minuti di walking distance possa essere dotato chiaramente nello scenario futuro attendere una progettualità di una stazione di ricarica nella propria prossimità che diventa la vera e propria ricarica di quartiere per i cittadini abbiamo iniziato questa sperimentazione a Brescia che con la prima inaugurazione ad aprile dell'anno scorso è questo breve video che non so se riuscirò a proiettare a far partire perlomeno non so se dalla regge mi aiuta non racconta quello che abbiamo fatto si tratta anche di un oggetto di design al quale abbiamo tenuto molto proprio per cercare di sviluppare un prodotto che sia realmente e che curi anche l'aspetto estetico che fino ad oggi diciamo non era stato molto attenzionato in questo settore grazie grazie Silvia penso che non sia sfuggito a nessuno quello che diceva prima Federico che le colonnine stanno diventando sempre più grandi e sempre più potenti è quello che hai detto tu sempre più piccole e sempre meno potenti allora a questo punto volevo capire quali sono le regole di utilizzo le regole di ingaggio di queste colonnine si usano esattamente come le colonnine a cui faceva riferimento Federico o c'è un altro modello di utilizzo da parte dell'utenza proprio perché diciamo grazie per la domanda intanto si tratta di un prodotto diverso quello che noi ci immaginiamo è che sia un prodotto diverso anche dal punto di vista dell'uso partendo dal presupposto come dicevo all'inizio che sottrarre sosta alle città non sia diciamo uno scenario che attendere in vista della crescita delle infrastrutture di ricarica sia compatibile con le esigenze dei territori proprio per questo nel nostro scenario ideale queste infrastrutture saranno delle stazioni di ricarica dove però non sarà necessaria e obbligatoria la ricarica in quei determinati stalli cioè noi ci immaginiamo l'evoluzione del paradigma dotando la sosta urbana di punti di ricarica quindi diventa una sosta infrastrutturata un'opportunità non più un'esigenza quindi cambia proprio il modo in cui viene concepita la stazione di ricarica che oggi è l'analogo di una stazione di servizio quindi uno va lì carica la macchina non appena ha finito deve portarla via altrimenti praticamente verrà fatta la multa nello scenario ideale diciamo che questo non succede molto però la normativa il codice della strada dice così quello che noi vogliamo fare con questo tipo di stazioni è completamente diverso ottimizziamo la durata della sosta che normalmente si stima che le auto siano parcheggiate il 98% del tempo della loro vita utile ricaricando quindi dotando la sosta di questo servizio ma non obbligando al termine della ricarica a lasciare lo stallo e sicuramente non obbligando dell'utilizzo l'utilizzo di quel determinato stallo ai fini della ricarica quindi questo chiaramente comporta in termini di redditività dell'investimento una una riconfigurazione totale sicuramente necessità di dorate più lunghe proprio perché la scommessa in questo caso è doppia cioè non solo noi ci aspettiamo che auspichiamo che le persone vengano a ricaricare per rientrare nell'investimento ma non le obbligiamo a farlo quindi sicuramente è una idea rivoluzionaria una scommessa però noi crediamo molto in questo e speriamo di avere ragione speriamo grazie allora quindi dopo aver visto cosa fa il comune dal punto di vista di pianificazione dopo aver visto cosa fa il trasporto pubblico cosa fa lo sharing e cosa fa una società come A2A vediamo a questo punto cosa fanno i costruttori i carmaker quindi lascio la parola a Valerio Vanacore e chiamo visto che la loro presentazione è condivisa Paolo Guaschi di Milano Industrial Buongiorno è stata pioniere nello sviluppo delle trazioni alternative abbiamo firmato abbiamo siglato il Climate Pledge con il quale ci impegniamo ad azzerare le emissioni nette di carbonio dell'intero gruppo entro il 2040 cioè dieci anni prima rispetto agli accordi di Parigi ed è un obiettivo questo davvero molto sfidante ma come lo raggiungiamo qui si è parlato di mobilità diciamo cittadina Iveco produce veicoli commerciali quindi spaziamo dalle 3-5 tonnellate fino al classico trattore stradale col semirimorchio che vedete in autostrada Iveco rimane fedele alla neutralità tecnologica cosa vuol dire? Vuol dire che sulla base di quelle che sono le necessità del cliente Iveco offre diverse soluzioni che possono puntare alla decarbonizzazione del settore del trasporto detto in altri modi se l'obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 riduciamole nel modo migliore che abbiamo a disposizione anche adesso come li distinguiamo? rispetto all'ultima rivoluzione industriale in cui sapevamo tutti che il vettore energetico era il gasolio e quindi tutti hanno investito sul gasolio queste nuove tecnologie lo dice la parola stessa sono nuove quindi non sono tutte uguali dimentichiamoci di fare tutto quello a cui eravamo abituati prima con la nostra vettura diesel con una vettura a trazione alternativa ci sono delle differenze come classificare queste differenze sulla base della necessità del cliente la prima grande distinzione da fare è l'autonomia prima Luca Refrigeri aveva parlato nel suo intervento di car sharing di autonomia lungo raggio per noi lungo raggio vuol dire più di mille chilometri mille duemila chilometri è chiaramente una mission questa difficilmente elettrificabile con la tecnologia attuale per cui noi come costruttore vediamo ancora il biometano o HVO quindi i famosi biocarburanti e nel futuro l'idrogeno perché la tecnologia attuale permette di pensare a una missione di lungo raggio in quel modo man mano che scende la richiesta di autonomia iniziano a subentrare possiamo contare sui veicoli 100% elettrici il macro trend adesso le città si stanno comunque continuando ad allargare le periferie si stanno spopolando si continua ad acquistare su internet il 95% degli acquisti nel 2040 sarà online quindi consegna dell'ultimo miglio tutti questi servizi verranno fatti con veicoli 100% elettrici quindi Iveco sviluppa fondamentalmente queste 4 tecnologie dividiamole ok trasporto leggero consegna dell'ultimo miglio sono veicoli è una mission questa è elettrificabile quindi contiamo soprattutto sulle istituzioni sulle città che stanno continuando e ne è un esempio quello che è stato appena citato continuando nell'opera di elettrificazione nella dotazione di colonnine di ricarica per abilitare questi veicoli e vediamo la linea blu che cresce con una rapidità abbastanza importante fino al 2035 in cui la maggior parte di queste missioni saranno effettuate con veicoli elettrici sui veicoli pesanti invece la situazione è leggermente diversa sono le famose mission che noi chiamiamo hard to abate cioè difficilmente abbattibili in termini di emissioni di CO2 quindi che cosa facciamo in questo caso promuoviamo i biocarburanti quindi una buona fetta di mercato la vedete nella striscia verde sarà ancora metano con l'accezione bio mano a mano inizieranno a crescere i veicoli elettrici per l'emission hub to hub o ultimo miglio per poi passare all'idrogeno quando l'ecosistema sarà pronto tenete presente che ci sono innumerevoli fondi stanziati anche nel PNRR per lo sviluppo della mobilità di idrogeno soprattutto volti alle mission pesanti perché i veicoli punti ancora nel biometano soprattutto sulle mission pesanti perché in questo momento è una tecnologia pronta sia in termini veicolari cioè permette al cliente o comunque all'autotrasportatore che si approccia a questa tecnologia di non avere dei compromessi rispetto al solito veicolo diesel autonomia 1600 km missione di lungo raggio tempistiche di rifornimento 7-10 minuti portata utile addirittura superiore ed è una tecnologia in grado veramente di decarbonizzare cioè rispetto all'HVO che tutti conosciamo che adesso ha la pompa il biometano probabilmente è quello più ecosostenibile tra i biocarburanti col biometano si riesce a decarbonizzare fino al 121% HVO fino al meno 90 ma tutta la gamma Iveco diesel è compatibile con HVO Iveco ha sviluppato tutta una gamma dal leggero al pesante alimentabile col biometano in più è un qualcosa incentivato dal PNRR che ci crea un'indipendenza energetica e che ci permette di valorizzare cosa che in Italia manca gli scarti l'umido che facciamo nelle nostre case può essere rivalorizzato per creare biometano passiamo invece al topic di questo incontro Iveicoli elettrici Iveco è uscita con un veicolo per noi chiave il Deli perché lo chiamo il Deli e non gli Deli perché gli Deli che vedete in piazza esposto è semplicemente la versione elettrica del Deli a cui tutti siete abituati quindi le stesse caratteristiche robustezza affidabilità facilità di allestimento caricabilità sono tutte cose che abbiamo provato a ribaltare anche sull'equivalente versione elettrica quindi paradossalmente voi potete prendere un veicolo Deli allestito diesel e traslare il suo allestimento sull'equivalente versione elettrica sostenibilità perché perché siamo tutte le criticità che abbiamo sentito oggi le domande anche che aveva fatto lei prima abbiamo cercato di risolvere cercherò di sfatare in questi pochi minuti tutte le complessità dei veicoli elettrici ok sostenibilità è un veicolo che abbiamo creato modulare quindi il cliente che si approccia a questo veicolo può scegliere quante batterie inserire una, due o tre a seconda delle sue esigenze ok completamente modulare le batterie sono integrate completamente all'interno dei longheroni del veicolo quindi nessuna sovrastruttura derivata seconda possibilità di allestirlo versatilità tutta la gamma che a cui voi eravate abituati scudato cabinato furgone tutta in elettrico con la possibilità diciamo della bonus mass che è una normativa europea che l'Italia ha trascritto possiamo scontare anche il peso dell'elettrificazione vuol dire che se voi siete abituati a guidare un classico 35 con patente B adesso potete guidare un 42 con patente B e quindi non impattare sulla portata utile a cui voi eravate abituati robustezza rimane il telaio AC prestazioni è un motore da 140 kilowatt andiamo uno a uno di queste casistiche allora cercherò di è un veicolo che io vi ho detto è nato elettrico anche se è l'equivalente del veicolo diesel quindi lo vedete in questa chart il motore non è più dove eravate abituati sotto al cofano il motore dov'è all'interno qui non so se si vede qui dei longheroni del veicolo ok questo che cosa ci permette di fare liberare spazio per aumentare la capacità di potenza installata e quindi numero di batterie più accorciare l'albero motore quindi meno sollecitazioni ok nessun elemento sporgente sul telaio 100% made in Italy questa è una cosa a cui tengo tantissimo perché le celle vengono assemblate nei nostri stabilimenti di Torino il veicolo è completamente integrato nel ciclo produttivo di Suzzara l'accoppiamento con le batterie viene fatto a Brescia quindi è veramente un veicolo a cui tengo tantissimo 100% made in Italy nel ciclo VLTP con i tre pacchi batterie riusciamo a raggiungere circa 300 km di autonomia VLTP attenzione è un ciclo peggiorativo perché prevede il 35% dei tratti autostradali in città se lo guidate in città con i tre pacchi batterie riuscite a raggiungere un'autonomia di circa 400 km quindi anche questo vi permette di ottimizzare quello che è il diciamo il vostro giro modalità di ricarica e qui arrivo a quello che è un altro spunto di riflessione perché purtroppo diciamo le colonnine si stanno facendo sempre più piccole ma le auto stanno implementando la tecnologia delle batterie i veicoli commerciali ancora peggio quando si tratta di un veicolo commerciale uno, due o tre pacchi batterie vuol dire passare per l'ideli da 37 a circa 110 quindi possibilità di ricarica ne abbiamo perché il deli vi permette anche qui di essere autonomi nella scelta dall'11 kilowatt in corrente alternata fino al 22 che è la fast charge di una volta fino alla possibilità di andare in corrente continua e quindi le cosiddette oggi fast charge fino a 80 kilowatt questo vi permette di ridurre al minimo le tempistiche necessarie di fermo del veicolo ok le batterie sono garantite anche questo è un punto di attenzione sono garantite 8 anni o 250.000 km per la versione a 2 o 3 pacchi batterie ok a noi non interessa come lo ricaricate siete tutti abituati al cellulare sapete che le batterie rientrano lavorano bene nel range che vada dal 10 al 90% ok quindi il consiglio qual è? scaricarle fino a 10 e poi ricaricarle per la garanzia Iveco non ci interessa sapere voi come le ricaricate potete fare un chilometro e metterlo sotto carica anche in corrente continua la corrente continua è quella che deteriora maggiormente la batteria noi all'interno degli 8 anni o dei 250.000 km garantiamo la sostituzione della batteria stessa se la potenza residua scende al di sotto dell'80% questo è un fattore molto abilitante è uno dei dubbi che spesso vengono avallati quando si tratta di passare da un veicolo tradizionale ad un veicolo a batteria diverse modalità sia di guida che di rigenerazione ok quindi modalità eco preserva la batteria power potenza natural mix tra le due e anche la modalità di rigenerazione è decisamente importante teoricamente voi potreste guidare questo veicolo anche solo utilizzando il pedale dell'acceleratore perché nel momento in cui lo rilasciate il veicolo frena e se state se arrivate da una velocità abbastanza importante il veicolo frena talmente tanto che accende le luci posteriori quindi è veramente riuscite veramente a gestirlo solo con un singolo pedale in più è un veicolo che nasce connesso quindi tantissimi servizi proprio per il gestore della flotta per settare tutte queste modalità sia di guida che di rigenerazione perché perché purtroppo non ci nascondiamo dietro un dito cioè il parco circolante italiano è uno dei più anziani d'Europa e non è pensabile che dall'oggi al domani ci sia uno switch completo da un endotermico ad un veicolo ad un veicolo a trazione alternativa per cui dobbiamo trovare una soluzione noi come costruttori dobbiamo trovare una soluzione che possa rassicurare il cliente che sceglie questa modalità alternativa ma anche assicurare il suo di business che alla fine i conti a fine mese devono sempre devono sempre tornare vi dicevo prima dell'allestibilità anche qui tre diverse soluzioni presa di forza a basso voltaggio 2 kilowatt e mezzo per sponde esempio presa di forza ad alto voltaggio 15 kilowatt per allestimenti frigo i motor ausiliario per compattatori quindi anche qui una soluzione completa che può diciamo baciare diverse tipologie di mission soprattutto nella città che è dove questo veicolo può avere il suo habitat naturale ovviamente soluzioni anche chiave in mano perché effettivamente lo si diceva prima il noleggio potrebbe essere un business per i veicoli elettrici quindi qualora ci siano delle problematiche per le infrastrutture di ricarica noi abbiamo siglato una partnership con Enel Xway quindi lasciamo parlare sull'infrastruttura di ricarica chi di queste cose se ne occupa mentre abbiamo creato proprio per venire incontro agli scetticismi una società 100% i veico che si chiama Gate che è 100% solo veicoli elettrici che si occuperà di noleggio noleggio del veicolo quindi voi potete se avete paura di qualunque cosa della trazione che il veicolo non soddisfi diciamo le vostre esigenze o il valore residuo del veicolo cosa me ne faccio a fine vita di questo di questo veicolo potete noleggiarlo e pagare una rata è un servizio pay per use a tutti gli effetti si discosta dai noleggi tradizionali perché pagherete a chilometro e posticipato cioè alla fine del mese non all'inizio all'inizio dello stesso ed è un servizio fatto apposta per chi vuole provarlo questo veicolo ok ovviamente io qui parlo come i veico ma i veico sul territorio parla tramite i propri concessionari ed è stato citato prima Milano Indastria che ringrazio del diciamo dell'invito e questo servizio verrà messo a disposizione tramite Team Rent ok di cui è un di cui il direttore commerciale è qui a fianco a me vi dicevo prima è un veicolo che nasce connesso quindi l'ultima pillola che vi lascio sono sulle possibilità di questo veicolo di essere gestito da remoto siamo tutti abituati al cellulare noi da Torino monitoriamo questo veicolo e siamo in grado di fare cosa di aggiornamenti software quindi tutto ciò che riguarda il software verrà aggiornato da remoto passeremo da un approccio reattivo ad un approccio predittivo cioè chiameremo l'autista il gestore della flotta nel caso in cui il veicolo potesse avere dei problemi trasformando il fermo macchina inatteso in una pianificazione quindi tutti i servizi che sono abilitati da una trazione alternativa cioè da un veicolo elettrico l'ultima slide la lascio a me buonasera a tutti mi ripresento sono Paolo Guaschi lavoro in Milano Industrial come ha citato Anna Coreti ringrazio dell'introduzione Milano Industrial è una realtà presente sul territorio da qualcosa come 40 anni attraverso la vendita e l'assistenza del veicolo dal leggero al pesante voi direte che cosa c'entra ritornare sul veicolo pesante leggero che tanto rimanda alla combustione al gasolio c'entra perché come è stato introdotto ci sono nuovi prodotti dati dalla stessa i veicoli come le idee li ha appena presentato ma soprattutto c'entra nella gestione del prodotto e della mobilità elettrica poche un'ora fa circa quando c'è stato l'intervento del giornalista al dottor Sposini ha fatto un'affermazione che personalmente forse da commerciale mi ha in parte infastidito ma assolutamente vera ha detto noi utilizziamo quando siamo utilizzatori dei veicoli elettrici ci rivolgiamo a dei venditori che spesso sono in grado esclusivamente di parlarti magari del cerchio da 23 o del tetto apribile vero ma questa non è vera nella realtà di chi è abituato a vendere i veicoli commerciali e pesanti da diverso tempo perché nella nostra magari meno appariscenti dei venditori di salone delle vetture meno eleganti abbiamo imparato a capire quelle che erano le esigenze del nostro cliente che ci chiedeva non un prodotto emozionale ma ci chiedeva un prodotto che gli servisse per portare la merce dal punto A al punto B nel modo più conveniente quindi noi abbiamo imparato a trattare la vendita al di là di portare a casa i soldini tutti i giorni per impiere il cassetto che penso sia utile e trasversale a chiunque ma sicuramente chiedendo al cliente che cosa effettivamente gli serviva cosa era necessario per ottenere il suo obiettivo l'elettrico se ne sta parlando e ringrazio dell'invito da diversi giorni è un insieme di queste esigenze solo forse adesso negli ultimi anni finalmente si sta capendo quali sono i punti i punti i punti saldi io ho iniziato a trattare l'elettrico qualche anno fa vi dico solo una cosa mi ricordo una panda del comune di Milano elettrificata a piombo stiamo parlando dell'epoca delle pietre praticamente da allora oggi dei passaggi ne sono stati fatti tanti e sono felice di aver sentito alcuni interventi soprattutto di società di enti pubblici come appunto la TM la 2A eccetera che tra l'altro sono anche nostri clienti perché stanno dimostrando di avere l'approccio giusto nei confronti della mobilità elettrica mi piacerebbe che gli utilizzatori sia noi come privati come utilizzatori come driver ma e soprattutto come società dimenticassimo tutti quei luoghi comuni che finora sono circolati penso che ognuno di voi per esperienza ne abbia sentito di tutti i colori carico la macchina in 10 minuti ma cos'hai qual è il tuo caricabatterie che batterie hai non ho la batteria poi ci sono quegli aspetti negativi il costo delle batterie l'affidabilità l'efficienza e quant'altro allora questa è un'operazione che ci coinvolge tutti ovviamente le aziende da un punto di vista economico ma soprattutto ci coinvolge anche come cittadini nel rispetto dell'ambiente allora al di là di andare a fare delle crociate nei confronti della mobilità elettrica a tutti i costi è necessario che ci riappropriamo della conoscenza del prodotto chi vende e chi acquista e questo l'hanno ripeto l'ho appena accennato l'hanno capito molto bene società come A2A come l'AMSA che è da tempo che sta sfruttando dei veicoli elettrici proprio perché si sono resi conto che i veicoli elettrici al di là delle fasi iniziali dove si diceva che l'autonomia è un problema le batterie non sono affidabili e vi discorrendo hanno dimostrato che utilizzandole con un uso consapevole e sapendo e analizzando esattamente il proprio ciclo d'uso il veicolo elettrico è assolutamente confacente alle loro esigenze e alla loro realtà e quindi questo dimostra tra l'altro in attività come appunto ho citato quella dell'AMSA ma potrei citare quella dei corrieri delle logistiche di chi trasporta alimenti di come si possa evitare decarbonizzare ognuno di noi tutti i giorni passando facendo la transizione da endotermico ad elettrico i numeri che si vedono in Italia sono sicuramente inferiori rispetto all'Europa purtroppo ci attestiamo attorno a percentuali poi sono variabili qualcuno di noi diceva è inutile che do il dato adesso perché tanto fra sei mesi sarà diverso è vero ma purtroppo i nostri numeri cambiano lentamente noi abbiamo dei numeri che si attestano attorno al 5% per le autovetture ma non sono molto distanti neanche per i veicoli commerciali e questo forse ci dovrebbe far pensare perché se negli altri paesi Spagna Germania Francia questo modello funziona cos'è che non sta funzionando da noi io la vedrei in maniera molto semplice quando un problema è complesso lo andrei semplicemente a scomporre in ogni suo singolo argomento la realtà è che prego l'argomento va visto semplicemente andando a guardare perché ripeto stavo dicendo dalle altre parti funziona da noi no perché probabilmente non è che ci manca la tecnologia anzi noi italiani abbiamo già dimostrato anni fa di aver creato delle aziende di produzione di batterie di veicoli stessi molto più innovativi di tanti altri paesi dei nostri cugini francesi piuttosto che tedeschi forse noi ci imbattiamo in tante piccole problematiche che abbiamo detto prima abbiamo sentito prima non mi ricordo il nome scusami per quanto riguarda l'intervento delle colonnine piuttosto che della burocrazia piuttosto che la difficoltà nel armonizzare tutti i sistemi di carica piuttosto che di rimessaggio piuttosto che di batterie stesse agli inizi quando è partita la mobilità elettrica addirittura non c'era ancora un protocollo di carica ben definito c'erano diversi sistemi di prese si è raggiunti adesso finalmente un minimo di ordine necessario quindi questo e vi lascio e concludo perché il mio doveva essere solo un piccolo intervento invece chi vuole acquistare poi passi pure da me questo è un altro discorso quello che concludo sul fatto di dire che forse mi ha fatto piacere vedere l'avanzamento dei lavori di chi produce colonnine di chi tutti i giorni è costretto a doverle installare di chi come le case costruttrici nel mio caso Iveco si approdiga nel cercare di mettere prodotti sempre più innovativi però forse dovremmo smetterla di avere questa filosofia e approccio che mi ricorda un po' le assemblee condominali perché a volte ognuno di noi va avanti ognuno di noi ha un'idea valida e quindi ringrazio ancora di più un convegno come questo perché al di là di potersi confrontare in questi momenti con questi argomenti sarebbe necessario finito questo convegno mettersi d'accordo appunto tra costruttori produttori di colonnini istituzioni perché veramente la soluzione non è poi così difficile finalmente non è così lontano vi ringrazio bene allora abbiamo concluso il primo blocco quindi chiedo un altro applauso a tutti e chiamo per il secondo blocco Gerald Avondio Bodino Massimiliano De Masi Valeria Braidotti e Marco Maria Mele abbiamo un po' visto a cosa succede nel mondo delle città rispetto ai servizi in questo secondo blocco vediamo cosa succede sempre dal punto di vista della ricarica in realtà io conoscevo scame rispetto alla tipologia di presa ma mi sembra di capire che si occupa di ricarica nel caso specifico poi vediamo che cosa succede dal punto di vista della logistica urbana un tema invece credo che sia la prima volta che trattiamo all'interno di questo convegno di EMOB il tema del mobility management e quindi cosa fanno le aziende dal punto di vista del mobility management per elettrificare e spingere verso l'elettrico e infine vediamo vedremo sempre dal punto di vista della diciamo della società private rispetto ai servizi per le città quindi lascio la parola a Gerald rispetto alla sua presentazione scame giusto? esatto buonasera a tutti grazie Valentino per l'introduzione ci dovrebbe essere una presentazione ecco è questa andiamo avanti quindi questo intervento ha diciamo come finalità quello di condividere alcune riflessioni le sfide e l'opportunità sul paradigma della quella che diciamo flessibilità energetica prendendo la prospettiva di un costruttore di infrastruttura di ricarica quindi da stamattina chi era con noi già agli interventi di questa mattina abbiamo visto diciamo la prospettiva dei operatori degli enti normatori questo intervento mira appunto a portare la prospettiva di un costruttore di infrastruttura di ricarica e come vogliamo farlo? vorrei farlo partendo appunto da alcuni dati quindi ulteriori dati per chi non avesse già la testa piena di numeri contribuirò ulteriormente con qualche dato velocemente per poi portare quella che è la nostra esperienza appunto in progetti di V1G e V2G cercheremo di dare qualche pillola di che cosa intendiamo con queste terminologie per poi concludere con alcune riflessioni e per far questo io partirei appunto dalla numerosità dei veicoli ho sentito un po' di riflessioni durante la giornata se c'è abbastanza potenza e energia per ricaricarli tutti quindi prendendo poi una prospettiva che sia sovranazionale non concentrandoci solo sulla Italia ma prendendo la prospettiva globale avere un'idea di quante sono i veicoli globalmente mi sembrava interessante per introdurre il discorso quindi al 2022 siamo intorno ai 25 milioni di veicoli e il tasso di crescita anno su anno è del 60% in Europa sono 10 milioni questi 25 milioni di veicoli lo studio della IEA International Energy Agency li stima intorno ai 110 terravattora che sono il consumo energetico che fa bisogno della nazione Olanda per dare una prospettiva che cosa è la direzione tutte le simulazioni avrete sentito il 2030 come data la prima tappa alla quale poi cercheremo di confrontarci quindi al 2030 ci sono diversi scenari queste sono simulazioni però dai 25 ci sarà teoricamente un per 10 quindi potremo arrivare a 250 milioni di veicoli che comunque all'interno di questo rapporto della IEA non vedono come problematico da un punto di vista dell'energia se i 25 milioni di veicoli oggi rappresentano l'1% del fabbisogno energetico questi 250 milioni di veicoli nel rapporto si parla di un 4-5% sul fabbisogno energetico quindi questo era il lato veicoli delle numerosità dopodiché passiamo all'altro lato dell'infrastruttura di ricarica e la numerosità e qui secondo me il grafico è diviso in due sulla sinistra sono le fast charge e sulla destra quelle chiamate slow i colori rappresentano le diverse nazioni geografiche e qua io non voglio aprire il dibattito che non è finalizzato la flessibilità energetica però vedere che il 90% delle stazioni fast siano installate in Cina chiaramente da un vantaggio competitivo a una certa area geografica quindi economie di scala per costruttori di infrastruttura questo secondo me ci deve far riflettere in termini di sistema geopolitico l'Italia allora l'Italia dove si posiziona in termini di infrastrutture di ricarica penso che l'abbiamo ripetuto più volte oggi al 2022 stazioni pubbliche sono intorno alle 40.000 39.000 punti di ricarica installati sul grafico di destra invece si vedono le infrastrutture ad accesso privato è un dato un pochino più complicato da recuperare quello dell'infrastruttura privata quindi non sempre disponibile ma in questo caso grazie anche al lavoro del Politecnico di Milano questo è un estratto del loro report di un mesetto fa si vede il lavoro che c'è stato e l'impatto che ha avuto il 110% il super bonus 110% sull'installato e questo quindi salto di più 170% di infrastrutture private ha avuto effetti positivi e anche negativi senza entrare troppo nel dettaglio però è stato sicuramente un salto molto importante per la nazione anche se e quindi contestualizziamo questa infrastruttura di ricarica di dove siamo oggi è ancora tutto da costruire gli scenari ancora che si prospettano al famoso 2030 di cose da fare ne abbiamo ancora tante ed è un'opportunità perché il cambio tecnologico ed è la seconda parte dell'intervento che andrò a fare è talmente veloce che essere partiti troppo presto avremmo addirittura potuto accumulare del debito tecnico quindi se vogliamo prenderla in una prospettiva positiva il fatto di avere ancora tanto da fare ci permette di sfruttare le tecnologie più recenti in termini particolari poi vedremo il V1G e il V2G che implicazioni ha questo fatto e qui è poi secondo me la slide un po' principale che ci introduce al tema sempre durante la presentazione al Politecnico di Milano è intervenuta Terna cercando di quantificare almeno per la nazione Italia quali possono essere gli impatti della numerosità di veicoli elettrici oggi e chiaramente attendere al 2030 secondo gli obiettivi aggiornati del PNIEC i famosi 6.6 milioni di veicoli quindi rappresentano i veicoli al 2030 250 gigovattora su ruota con un fabbisogno energetico di 366 teravattora quindi la stessa Terna dice da un punto di vista di produzione non ci saranno problemi ad alimentare questi veicoli se poi anche seguono tutti gli investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili il vero problema è il picco di potenza il collo di bottiglia è il picco di potenza col quale noi riusciamo poi a soddisfare questa domanda tant'è che appunto in questa simulazione cosa si vede si vede che la fascia oraria nella quale ci può essere maggiore criticità è quella serale questa è una simulazione sempre del Politecnico in una città media 200.000 abitanti e appunto si vede che la sera al 2030 è quando c'è questo picco di potenza e quindi il tema della flessibilità è qui che entra cioè quali sono gli strumenti con il quale noi possiamo pilotare questo questo questa questo fabbisogno concentrato oggi abbiamo degli strumenti che è semplicemente il fatto di poter gestire con tariffe flessibili l'utilizzo quindi c'è la famosa F1 F2 F3 carico la sera perché mi costa meno quindi un ruolo più diciamo passivo anche da parte dell'utente finale i nuovi paradigmi chiamati V1G e V2G dovrebbero anche far rendere sempre di più attivo anche l'utilizzatore finale con V1G quindi Vehicle One Grid è più un paradigma monodirezionale col quale si permette mi scuso con chi queste cose magari le sa magari però la ritengo opportuno Vehicle One Grid con un aggregatore un operatore a monte che in base al fabbisogno energetico puntuale può abbassare i consumi di fonti di dispositivi questo è interessante perché la tecnologia già esiste il V1G semplicemente ad oggi non è stata mai entrata così fortemente nelle nostre case perché permettere a un operatore di abbassarmi il forno mentre sto cucinando ha poco senso così come abbassare il ferro da stiro cominciare invece a poter pilotare e abbassare la ricarica del veicolo elettrico ecco l'interesse data il grande fabbisogno che potrebbero portare i veicoli quindi questo è il primo paradigma V1G permettere all'operatore di abbassare le potenze tanto io magari carico tutta notte mi interessa poco che magari mi abbassano da 3 kilowatt a 1,5 e poi riportarmelo sull'importante che io la sera la mattina successiva il veicolo sia a carico quindi questo è il primo aspetto e vedremo poi che cosa ci serve per poi cararlo nella realtà perché va bene i massimi sistemi ma poi bisogna andare nell'operatività e nelle cose realizzarle e l'altro aspetto è il V2G quindi via col to grid questo duplicità io ti do energia al veicolo poi però se mi dovesse servire posso anche riprenderla quindi i veicoli sono proprio delle batterie che possono reimmettere reintrodurre energia nella rete e anche qua ci sono tutte delle considerazioni da fare ci sono delle considerazioni che più avanti appunto è lo scopo condividiamo e l'altro grosso tema e io mi fa piacere questi 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 convegni perché come come scambio se non sbaglio siamo presenti anche noi dall'inizio dalle prime manifestazioni sono quelle che poi permettono di fare parlare i diversi e le diverse industrie e mai come oggi si bisogna far parlare delle industrie che probabilmente non avevano motivo di parlarsi dei colossi come quello dell'automotive e dei colossi come quelli dell'energy oggi col fatto che si può avere questo scambio di energia anche a livello normativo implica che queste due industrie devono cominciare a convergere e nel mezzo l'elemento abilitante infrastrutturale è la colonina di ricarica che si trova nel mezzo a dover mediare fa bisogno dell'automotive fa bisogno dell'energy con il cappello sopra e l'abbiamo visto anche con Arera questa mattina di tutti gli aspetti normativi in Italia e in Europa quindi diciamo la nostra esperienza in questo tema avviene perché Scame non mi ha ancora tradito l'accento è un'azienda della Bergamasca e quest'anno noi compiamo il sessantesimo anniversario della fondazione siamo nelle alti in Val Seriana a Bergamo e dal 1999 noi ci occupiamo di mobilità elettrica diciamo questo il mercato ce lo riconosce abbiamo inventato il primo connettore standardizzato quindi si trova nella normativa primo connettore per i veicoli leggeri nel 99 e poi nel 2010 realizziamo in Italia a riprova che le industrie in questo senso nella nazione ce le abbiamo si sono mosse per tempo perché parliamo del 2010 realizziamo la prima stazione di ricarica in alternata e da qui è stato poi un seguire quella che sono stati i fabbisogni delle industrie le diverse industrie e per questo siamo entrati nel 2018 in un progetto europeo che aveva come obiettivo quello quindi di testare in campo il vehicle to grid e nel 2021 con RSE abbiamo partecipato alla sperimentazione del CIR adesso quindi vorrei entrare un pochino poi dopo più nel dettaglio di questi due progetti quindi vehicle to grid e V1G che abbiamo provato sulla nostra pelle e condividere quelle che sono le nostre esperienze e takeaways su questi progetti e perché siamo riusciti a entrare dal V1G al V2G perché la gamma che siamo andati a sviluppare nel corso degli anni va dal caricatore da 3,7 kilowatt in alternata fino alla corrente continua a 150 kilowatt e questo è una tecnologia che dominiamo internamente non siamo dei semplici assemblatori che compiano il controllore da una parte e qualcos'altro dall'altra Valentino ti ricordavi bene Scame è nata facendo le prese di ricarica quindi facciamo tutte quelle facciamo i cavi di ricarica tutto in Italia il controllore lo sviluppiamo in Italia il firmware e il software ci abbiamo dovuto penare ma per colmare quelle competenze perché si nasce elettromeccanici siamo finiti a fare software e firmware quindi il cambio di pelle che l'azienda ha dovuto fare è sicuramente importante ma questo dominio della tecnologia questa verticalità ci permette poi di entrare a ragion veduta in questi progetti V1G V2G e poter veramente sporcarsi le mani quando c'è bisogno di adattare qualche cosa al contesto sia esso normativo o infrastrutturale quindi questa è la ragione per cui Scame ha partecipato in questi progetti e quindi per il vehicle to grid parliamo del 2018 lo scopo appunto era un progetto con Horizon 2020 quindi finanziati dalla comunità europea e aveva come obiettivo l'ottimizzazione sia della produzione locale di energia quindi con pannelli fotovoltaici e l'accumulo dopodiché anche la massimizzazione del suo utilizzo in una micro grid era ad osimo nelle marche tra l'altro in questo progetto veniva da sorridere perché c'era anche Iveco che partecipava fornendo il veicolo che avrebbe poi permesso la vehicle to grid per la parte dell'automotive quindi era anche Iveco partner di questo progetto e ecco qui già ci sono i primi i primi problemi nel senso che ci si imbatte in un progetto vehicle to grid e ancora non c'erano le normative di riferimento quindi l'aspetto normativo è sicuramente un qualcosa con il quale ci siamo scontrati questa si chiama la normativa di riferimento alla 1518 tratto 20 che è stata fatta finita un anno fa e quindi da qui ci sono le specifiche per poi recepirle sia in ambito energy che in ambito automotive che in ambito infrastruttura di ricarica cosa significa per ridurla se il veicolo non utilizza questa normativa e quindi il modo in cui si scambiano i dati l'infrastruttura di ricarica del veicolo non è normata non c'è modo di andare avanti quindi qualcosa ci si inventa per questo che al tempo si parlava di prototipi c'erano qualche cosa su cui ci si poteva appoggiare ma gli aspetti normativi servono proprio per standardizzare standardizzare e qui torniamo veicolo infrastruttura di ricarica e rete elettrica quindi veramente un tema complesso che ancora diciamo non è totalmente smarcato questo era per la parte V2G la parte V1G nasce nel 2021 questo progetto con ricerca sistemi energetici quindi con RSE scam e partecipa qual è il risultato il risultato concreto è sicuramente anche grazie alla partecipazione del regolatore una definizione almeno in Italia di che cosa si intende con V1G si definiscono i casi d'uso e c'è un quadro normativo con il quale si definisce il controllore dell'infrastruttura di ricarica questo chiamato CIR quindi abbiamo finalmente un quadro normativo con il quale ci si può confrontare per realizzare l'infrastruttura e anche per contestualizzarla all'interno di quello che è il sistema infrastrutturale italiano e dopo di che SCAME altro obiettivo che si è riuscito a portare a casa qua è unico nel mercato in questo momento italiano e mondiale il fatto di aver sviluppato una stazione di ricarica che implementa il protocollo chain 2 che tra l'altro è una cosa molto avanzata tipica però solo del mercato italiano quindi la spendibilità è solo sulla nazione Italia però è veramente importante perché la comunicazione passa via powerline communication quindi si evitano di ulteriori fili per fare la comunicazione fra il pod e l'infrastruttura di ricarica tutto viaggia attraverso i cavi di potenza questi sono i due progetti mi avvio quindi alle conclusioni quelli sono i risultati le sfide e le opportunità quindi per la parte V2G visto in un contesto europeo perché secondo me in questo noi dobbiamo ragionare almeno come infrastruttura di ricarica costruttori anche solo per ottenere quelle economie di scala che ci permettono di essere competitivi rispetto a che cosa l'abbiamo visto nelle statistiche i fast charger il 90% dei fast charger mondiali sono installati in Cina quindi il riuscire quantomeno a creare un volume di scala per ottenere e mantenere la competitività è importante è per questo che dobbiamo ragionare in ottica europea ottica europea che ancora fatica si fa fatica in Italia a figurarsi a mettere d'accordo l'Unione europea dove ogni nazione ha le sue particolarità e poi soprattutto il vehicle to grid sicuramente arriverà non stiamo dicendo di no probabilmente non è quello che arriverà dopo domani o domani perché anche definire i casi d'uso non sono chiarissimi parliamo del vehicle to grid in casa ok ma dopo entriamo nel tema di dove avviene la conversione scusate qui mi apro un attimo un'altra parentesi la conversione da corrente continua abbiamo le batterie devo rimettere l'energia nella rete corrente continua devo rimetterla in alternata sulla rete dove la trasformo e non è chiaro perché uno o due mesi fa Renault esce con un nuovo veicolo che è V2G Ready Compliant quindi la conversione avviene a bordo veicolo significa che allora il caricatore è semplicemente l'elemento passivo che riceve già in alternata oppure diciamo che la conversione la fa l'infrastruttura di ricarica e allora il veicolo ridà la corrente continua all'infrastruttura che è essa che poi la trasforma in alternata non è ancora chiarissimo a livello di industrie e quindi questo è sicuramente fonte di incertezza come costruttori prima di poi andare ad industrializzare rendere industrializzato un prodotto anche noi stiamo cercando di capire questo per il lato privato nel pubblico nel pubblico parliamo di 350 kilowatt 400 kilowatt voglio caricare veloce andare a casa ci manca perché devo ridare flessibilità al sistema anche no tranne e quindi questo è lo scenario nel sharing che effettivamente se il progetto avanti di ricarica lo so ste continuate sul lungo probabilmente allora il via call to grid anche nel pubblico potrebbe avere un'applicazione però ripeto guardiamo in scenari molto avanzati il V1G altrettanto io qui prendo la mia prospettiva un po' limitata a costruttura di infrastrutture di ricarica sempre la prospettiva europea non è chiaro tutti i protocolli che ci sono con i quali possiamo rispondere all'operatore di rete abbiamo l'operatore la multi utility di turno che deve controllare l'infrastruttura di ricarica ecco come comunichiamo anche qui pletora di protocolli lì non nominati solo alcuni e ancora la sperimentazione del controllore infrastruttura di ricarica il CIR in Italia non è conclusa si apriranno adesso la seconda fase della sperimentazione quindi anche qui il V1G è sicuramente uno stadio più implementabile del V2G però c'è ancora del lavoro da fare quindi l'ultima slide e ho concluso sicuramente la necessità quindi di lavori di standardizzazione e in questo senso noi vediamo molto positivamente questi progetti europei in cui si può collaborare con diversi attori diversi partner ognuno per la sua parte di industria certo anche quello che stiamo vedendo perché abbiamo partecipato in diversi ne stanno nascendo così tanti che tante volte il risultato ognuno che porta un progetto di sperimentazione alla fine dice il mio è la soluzione che poi andrà a essere implementata tu proponi la tua noi proponiamo la nostra quindi anche cercare di razionalizzare questo chiaramente mi riferisco a un livello un po' più alto a livello europeo quali sono i progetti ci permette a noi poi che effettivamente le cose le dobbiamo realizzare di avere chiarezza di quale direzione deve prendere poi l'industria di riferimento quindi benvengano gli progetti perché sono necessari e l'altro è la chiosa finale quello che abbiamo ripetuto in tutte le salse è il fatto che si debba creare poi un contesto paese fertile all'adozione di questa transizione energetica quindi ancora una volta grazie a IMOB per l'opportunità io ho concluso grazie grazie Geralda lascio la parola a Massimiliano De Masi di Poste Italiane e a Massimiliano però chiedo una cosa noi a Milano siamo abituati a vedere veicoli di poste veicoli elettrici voi siete un'azienda molto capillare sul territorio vorrei capire se ciò che vediamo a Milano sta avvenendo un po' in tutto il territorio italiano o meno posso vado avanti con questo buongiorno a tutti posso confermarti sì è uno standard nazionale noi abbiamo standardizzato siamo riusciti a standardizzare il nostro modello operativo comunque faccio solo una piccola regressione sulla giornata di oggi ho trovato veramente molti punti di contatto su problematiche che abbiamo affrontato come azienda rappresentate dai principali colleghi che mi hanno prima preceduto allora da un punto di vista pianificazione ad esempio della mobilità all'interno della città con la redazione dei PUMS e quindi dei piani urbani della logistica sostenibile dove noi come operatori logistico siamo fortemente interessati e dei stakeholder fondamentali per la creazione di modelli sostenibili per l'accesso alle città la parte ad esempio come veicoli commerciali dalla parte di VECO cioè la scelta ottimale della soluzione tecnologica da applicare a seconda delle emissioni che deve fare l'operatore logistico quindi trasporti di lungo raggio e sicuramente quello che può essere l'HVO è un elemento che può accompagnare poi la transizione all'utilizzo o dell'idrogeno o dell'elettrico ma oggi spendibile sicuramente l'elettrico su contesti di logistica urbana di corto raggio dove già stiamo implementando appunto soluzioni BEV o comunque basso emissive fino a anche all'esperienza della collega per l'infrastrutturazione della rete di ricarica con tutte le problematiche di potenza e di accessibilità anche di installazioni su siti che magari sono oggi oggetto di non poter realizzare installazioni all'interno dei nostri centri di distribuzione perché magari all'interno di città dove ci sono dei vincoli anche paesaggistici quindi ho ascoltato con molta attenzione mi sono anche ho trovato questi touch point in cui mi sono riconosciuto nella gestione delle problematiche e nella presentazione di oggi volevo far capire come noi abbiamo affrontato il problema sicuramente alla tua domanda Milano è un modello unico in cui Poste Italiana è investito per la mobilità elettrica la risposta è no perché per noi diciamo come operatore logistico nazionale garantiamo standard su tutto il territorio sicuramente funzionale a quella che è l'orografia del territorio stesso perché non in tutti i posti possiamo diciamo accedere con tipologie di veicoli o con soluzioni diciamo che hanno una certa impatto all'interno delle città noi già da 12 anni da più di 12 anni abbiamo in flotta veicoli elettrici quindi i cosiddetti free duck piccolini quadricicli erano una prima sperimentazione che veniva fuori da un progetto europeo in cui ancora non c'era uno standard non c'era un'industria su questo siamo stati un po' diciamo i capifila di questo tipo di iniziativa e ci abbiamo creduto ma abbiamo consolidato la parte comunque di transizione green quindi anche per accompagnare proprio il sistema paese a passare da quello che è un impatto significativo dell'utilizzo di soluzioni diciamo di carburanti altamente emissivi con l'utilizzo di veicoli elettrici questo perché siamo ben consapevoli di quella che oggi è la nostra magnitudo operativa quotidiana porto qualche numero noi abbiamo una flotta di circa 28.000 veicoli tra tricicli quadricicli diciamo auto e van abbiamo più di 1300 centri di distribuzione tre hub nazionali nove connessioni aeree connessioni logistiche sul lungo raggio regionali e provinciali quindi quotidianamente generiamo un impatto significativo in termini di punto di CO2 di impatto emissivo con il nuovo piano strategico il management ha preso un forte impegno al 2025 si punta alla riduzione del 30% di tonnelli di CO2 e qui noi al 2030 la carbon neutrale quindi vinciamo ancora rispetto a chi aveva detto 2050 quindi è una sfida ancora più nella sfida dati i numeri che vi ho detto prima quali sono gli ambiti su cui stiamo investendo o abbiamo già messo in pipeline già investito diciamo da un punto di vista anche economico sicuramente c'è tutta la parte di ammodernamento della flotta una flotta che al 2024 sarà per il 50% elettrica o basso emissiva abbiamo puntato anche a un recapito green totalmente green quindi su ad esempio due siti che già sono partiti campiera e viareggio ma realizzeremo 35 siti che gestiranno in maniera basso emissiva comunque full green tutta la parte distributiva questo vuol dire che i siti sono progettati o riconfigurati per avere quindi produzione elettrica da fonte rinnovabile mediante pannelli e la stessa elettricità per gestione dei servizi del sito ma anche per alimentare veicoli elettrici che poi andranno in distribuzione nelle città la parte di immobili allo stesso modo tutti gli immobili sono stati riqualificati o quelli di nuova generazione parliamo di tre abbe nazionale che esistono tutta la parte dello smistamento dei pacchi amazon che vengono poi consegnati all'utenza ecco questi nuovi tre siti hanno la più alta certificazione in termini di sostenibilità per passare poi alla rete punto poste quindi noi oggi garantiamo e si parlava qui di città dei 15 minuti dei 5 minuti noi garantiamo all'utente il poter prendere o conferire un pacco o comunque impostare corrispondenza entro i due chilometri attraverso cosa? una rete capillare di uffici postali una rete capillare di locker ma anche di cosiddetti punti di prossimità come ad esempio la rete dei tabaccai questo a quale beneficio? sicuramente diciamo per l'utenza avere un punto di prossimità e quindi diciamo magari non prendere la macchina per poter diciamo andare a ritirare un pacco secondo le proprie esigenze anche personali e lavorative ma soprattutto come rete di ricapito andiamo a ottimizzare quelli che sono i giri necessari perché parlo un po' con un gergo tecnico abbiamo la coincidence cioè nello stesso punto andiamo a conferire un numero di pacchi superiore rispetto diciamo a dover toccare gli n punti di consegna quindi questo è un po' lo scenario che ci ha visto partecipi e abbiamo costruito per il nuovo piano industriale che si comprenderà nel 2024 un flash diciamo su quello che oggi è la composizione della flotta elettrica per quanto riguarda posti italiane abbiamo diciamo una vasta gamma di veicoli proprio perché è funzionale sia all'attività che deve fare il nostro il nostro collega porta lettere che è sempre meno diciamo nella sua borsa a lettere e sempre più pacchi e quindi abbiamo diciamo aumentato quella che è la volumetria la capacità di carico dei nostri veicoli sono veicoli totalmente elettrici oggi ne abbiamo circa 6200 applicati a livello nazionale quindi la risposta sta in parte in questa chart in cui vedi nei pallini verdi non c'è solo Milano che ha i veicoli elettrici ma è dislocata diciamo più o meno in maniera omogenea in tutta Italia e dall'altra parte abbiamo dovuto infrastrutturare siti di proprietà di poste con una rete privata non una rete pubblica quindi oggi penso che siamo una delle uniche reti private di ricarica elettrica che conta circa 6.000 wallbox quindi punti unici di accesso per la ricarica un ulteriore aspetto è una flotta che sì sicuramente ha puntato ad una transizione green quindi ove possibile ove il mercato anche ci veniva dietro perché parliamo di numeri grandi abbiamo avuto 2020-2021 tutta la crisi anche dei chip e quindi abbiamo avuto anche dei ritardi delle consegne non potevamo bloccare attività operative e quindi dovevamo trovare il giusto compromesso tra elettrificare tutto o andare in short con le forniture e quindi abbiamo anche optato per soluzioni basso emissive quindi il mild hybrid di turno aumentare anche il payload questo cosa vuol dire abbiamo ottimizzato o strutturato i nostri furgoni le nostre auto per ottimizzare la capacità di carico questo ha un riflesso anche in termini di impatto sulla città questo vuol dire sottrarre i mezzi e quindi spazio alla città diciamo all'utilizzo dei veicoli all'interno della città ottimizzando quindi il giro del portalettere ma ottimizzando anche la sua operatività perché diciamo tutto il prodotto è compartimentato sia in maniera sicura ma anche in maniera agevole per l'operatività e questo impatta anche magari sugli stalli di sosta per esempio quindi sono diciamo un'ottimizzazione in termini di fermate e infine e non ultimo sicuramente la sicurezza c'è stato da circa due anni un piano di dismissione di quelli che sono i veicoli a due ruote proprio per aumentare la sicurezza dei nostri colleghi e abbiamo optato per i tricicli tricicli elettrici siamo stati tra le prime aziende in Italia a introdurli come strumento di lavoro e affiancate a questo invece sul mondo automotive abbiamo strutturato diciamo delle retenzioni per il carico proprio per rendere più sicura l'alloggiamento della merce e agevole in fase di delivery per il nostro collega porta lettere questo è veramente in estrema sintesi il percorso che Poste sta affatto e sta effettuando a completamento poi nel 2024 nell'ammodernamento della flotta e che quindi può sicuramente contribuire dati i numeri che dicevo prima ad una transizione positiva e transizione green per quanto riguarda il sistema paese stiamo vedendo sicuramente la parte di idrogeno con i progetti Horizon abbiamo e stiamo verificando anche la compatibilità dell'utilizzo ad esempio dell'HVO per determinati furgoni e mezzi perché non tutte le cause automobilistiche ad esempio certificano il fatto che può essere utilizzato l'HVO però ecco non siamo focalizzati solo sull'elettrico ma puntiamo necessariamente ad un accompagnamento graduale per quanto riguarda l'utilizzo di ogni soluzione che possa contribuire a un abbattimento delle CO2 ad oggi come diciamo in maniera prospettica un po' il ruolo diciamo io venivo da una responsabilità che era appunto dell'ingegneria dei trasporti e quindi nella parte proprio di pianificazione programmazione e definizione di quella che deve essere la flotta ora ricopro un ruolo un po' più prospettico sui 5 e 10 anni quindi come possono questi i megatrend di innovazione essere diciamo implementati all'interno dei nostri modelli operativi come posti italiane diciamo facciamo parte del centro nazionale per la mobilità sostenibile in sintesi il centro nazionale è uno dei 5 centri di eccellenza per quanto riguarda nello specifico la mobilità promossi dal MIUR e su fondi del PNRR che punta a una diciamo a trovare soluzioni modelli prodotti servizi di una mobilità merce e persone digitale sostenibile e inclusiva come posti italiani diciamo non potevamo che non accettare la sfida del MIUR insieme a circa 20 aziende nazionali e altrettanti dipartimenti di ricerca e sviluppo delle università e insieme al CNR partecipiamo a 4 dei 14 pillar SPOC che rappresentano diciamo l'ecosistema della nuova mobilità abbiamo scelto 4 SPOC perché già erano nella pipeline dell'innovazione della mia divisione che è posta comunicazione e logistica parliamo dell'advancer mobility il mondo dei droni come poste al momento non crediamo nella consegna all'utente finale del pacco a casa del cittadino io abito a Roma insomma già immagino i bambini che fanno già prendono i piccioni immaginiamo i droni detto ciò abbiamo già fatto attività di sperimentazione dell'utilizzo di droni cargo quindi di connessioni logistiche connessioni trasportistiche in sostituzione o in complementarietà a quello del trasporto su gomma qualche dato dimensionale dei droni cargo 150 kg di portata 100-120 km di autonomia veicoli totalmente elettrici che possono poi aumentare il loro range la loro estensione o con soluzioni che stiamo vedendo di battery swap un po' emulando quello che è anche il modello oggi sull'automotive oppure la cosiddetta ibridizzazione cioè capire dove può partire l'elettrico rispetto magari a una spinta con il termine sempre però avendo quel bilancio corretto di abbattimento di CO2 rispetto a un motore termico classico quindi il nostro mondo il nostro campo di applicazione i nostri casi d'uso diciamo visti sul mondo dei droni sono connessioni logistiche ripeto up to up connessioni logistiche di trasferimento di merce isole minori non ultimo anche la parte tutta quello che necessita di un trasporto urgente della parte biomedicale quindi sempre qui favorendo l'inclusività l'accesso della mobilità delle merce all'interno delle città o comunque di asservimento delle città stesse un altro diciamo trend tecnologico che stiamo affrontando è quello dell'utilizzo della guida autonoma prima si parlava dei robotaxi a San Francisco anche qui noi stiamo costruendo dei casi d'uso abbiamo ipotizzato dei casi d'uso non solo per quanto riguarda una sorta di locker mobile per il conferimento l'asservimento del prodotto ai clienti ma soprattutto per la logistica interna e quindi anche qui trasferimento di prodotto tra i siti o di aumento di capacità per operazioni da parte del portalettere su determinati magari aree geografiche l'utilizzo di veicoli leggeri e quindi le cargo bike puntiamo molto a modelli di ciclo logistica ecco non ho detto prima che abbiamo rintrodotto ho rivisitato le biciclette quelle del classico postino introducendo delle nuove cargo bike a pedalata assistita con un fattore di carico di circa con un baule di circa 300 litri quindi anche qui stiamo investendo su una mobilità dolce una mobilità che possa diciamo servire magari i centri storici dove necessariamente ecco sia il tricico che i furgoni anche seppure elettrici comunque hanno il loro ingombro all'interno delle città per passare poi alla gestione del dato quindi il dato è fondamentale per noi come operatore logistico per andare a ottimizzare le reti ottimizzare i servizi e da qui la volontà di costruire un digital twin cioè un gemello digitale su aree di recapito proprio per fare analisi di sensibilità quindi capire come può cambiare il recapito in funzione dei volumi o a seconda diciamo di modelli di servizi che vogliamo implementare in estrema sintesi stiamo lavorando nel presente per un cambio tecnologico della flotta degli immobili e di accesso ai servizi da parte dell'utenza in maniera prospettica ma non tanto stiamo lavorando e capitalizzando trend tecnologici che poi metteremo all'interno andremo a sperimentare su The Living Lab quindi all'interno di città e se diciamo hanno una loro fattibilità tecnica e operativa e poi una sostenibilità economica necessariamente saranno scalati all'interno della nostra filiera logistica credo di aver diciamo recuperato un po' di tempo delle sessioni precedenti grazie ancora al netto di tutto ciò che hai raccontato a me viene in mente un aspetto e me l'ha fatta venire in mente una slide che hai fatto vedere quando hai fatto vedere diciamo la pluralità di mezzi di cui disponete è una vecchia idea che avevamo su cui avevamo anche un po' ragionato con qualche tuo collega legato proprio al fatto della vostra capillarità sul territorio e magari questi veicoli soprattutto in luoghi poco appetibili per lo sharing negli orari in cui i veicoli non vengono utilizzati dalle poste magari potrebbero essere messi a disposizione della popolazione di questi piccoli luoghi dove magari è poco conveniente per una società di sharing arrivare e posizionare la propria flotta rispetto alla vostra pluralità di servizi siete mai riusciti poi ad approfondire questo tema abbiamo diciamo personalmente l'ho visto in maniera tangenziale quello che posso dire c'è anche un problema assicurativo normativo la nostra flotta comunque è inforrente quindi poi verrebbe noleggiato un test quindi ci sono degli aspetti legali che al momento non consentono in maniera così veloce implementare un modello di servizio di sharing magari su aree remote tu pensavi giusto però so che nelle idee dei colleghi che fanno sviluppo marketing e sviluppo prodotto anche in ottica del polis quindi dei nuovi anche progetti di prossimità sportello unico del cittadino questo potrebbe essere un elemento che può affiancare come hub proprio front office diciamo come pubblica amministrazione che porta servizi pluri servizi all'interno dello stesso sito quello del car sharing potrebbe essere uno di questi grazie allora adesso lascio la parola a Valeria a Braidotti noi siamo abituati conosciamo tutti cosa fa Siemens in realtà Siemens nell'ambito della conferenza di oggi avrebbe potuto raccontare molte cose però io ringrazio Valeria per essere qui perché non ci racconterà cosa fa Siemens ma ci racconterà che cosa fa Valeria in Siemens nell'ambito delle politiche di mobility management e come un'azienda privata può spingere verso l'uso della mobilità elettrica nell'ambito delle città in cui Siemens è localizzata grazie Valentino buon pomeriggio a tutti innanzitutto mi presento io in Siemens lavoro nell'area procurement e in particolare mi occupo dell'acquisto di tutti i servizi di mobilità quindi parliamo di travel flotta marketing comunicazione eventi e poi sono anche i mobility manager aziendale perché stiamo elettrificando la flotta innanzitutto Siemens è da anni che sta lavorando con impegno verso la sostenibilità questo è il nostro framework di sostenibilità che lavora su questi cinque pillar il primo è la decarbonizzazione nell'ambito del quale appunto si colloca il progetto di elettrificazione della flotta poi vedete gli altri che riguardano l'etica la governance l'efficienza delle risorse l'equity e l'employability abbiamo diciamo le principali certificazioni sicurezza informazioni prevenzione corruzione qualità poi nell'ambito ambientale diciamo per quanto riguarda l'ambiente io sono coinvolta in tutte le certificazioni quindi l'energia ambiente EMAS tutto ciò che riguarda appunto l'impatto ambientale della flotta e anche del piano spostamenti casa lavoro e Siemens ha aderito al programma Evicento non so se voi lo conoscete però è un programma a cui hanno aderito diverse aziende con un impegno chiaro di avere una flotta completamente elettrica al 2030 questo perché comunque come azienda abbiamo l'obiettivo di azzerare le nostre emissioni le emissioni delle nostre operations entro il 2030 e quindi anche della nostra flotta la nostra flotta di fatto impatta a livello di emissioni una percentuale di emissioni molto importante rispetto alle nostre operations perché abbiamo già efficientato tutti i nostri edifici ed è quella su cui in questo momento ci sono tutti i fari puntati quindi abbiamo lavorato molto nell'ultimo anno per costruire un piano di elettrificazione che a partire dal 2026 ci consentirà di disporre di carlis completamente elettriche quindi non avremo la possibilità di ordinare macchine che non siano full electric quindi per raggiungere questo obiettivo di emissioni zero nel 2030 allora come è composta la nostra flotta abbiamo 1600 veicoli oggi solo il 3% sono ibridi plug-in ed elettrici ecco l'ibrido plug-in è un qualcosa su cui che abbiamo cominciato a introdurre qualche anno fa ma che ad oggi non è più presente nelle nostre carliste abbiamo detto o diesel o elettrico non c'è via di mezzo o benzina o full hybrid ma l'ibrido plug-in per noi non è sostenibile perché comunque abbiamo persone che viaggiano molto e non sarebbe utilizzato adeguatamente sono macchine che vengono utilizzate principalmente ad uso promiscuo quindi il 99% sono ad uso promiscuo poi abbiamo anche qualche auto di settore e lì vedete appunto le emissioni della flotta che sono quasi 6.000 tonnellate solo nell'area di Milano abbiamo 900 macchine quindi comunque un numero importante di auto aziendali e la nostra sede è a Milano e abbiamo nella nostra sede circa 1.400 dipendenti che quindi si spostano non dico tutti ogni giorno perché poi abbiamo anche un buon smart working che ci permette di molto libero che ci permette di muoverci mediamente due giorni e mezzo a settimana per venire in ufficio però stiamo puntando molto anche sul fatto che anche i nostri collaboratori che hanno l'auto privata possano prendere una vettura elettrica quindi l'obiettivo come ci stiamo arrivando a questo obiettivo allora siamo partiti a cominciare a ragionare sul tema dell'elettrificazione nel 2020 facendo una survey interna massiva a tutti quelli che avevano l'auto aziendale per valutare il potenziale di elettrificazione della flotta è una survey che abbiamo sviluppato internamente chiedendo appunto quanti chilometri le persone facevano giornalmente quali erano le distanze massime se avevano la possibilità di ricaricare a casa se avevano comunque un box eccetera e da lì abbiamo capito più o meno come eravamo messi non eravamo messi bene in quel momento abbiamo comunque creato un team di lavoro cross funzionale costituito da me che lo coordinavo poi c'erano le risorse umane c'era il nostro energy manager il sustainability manager c'era la funzione tax perché comunque poi dovevamo valutare anche gli aspetti poi fiscali sulle soluzioni che volevamo andare a intraprendere anche per la car policy e anche i nostri colleghi della funzione di business perché noi abbiamo anche tutto un ramo di business che si occupa di ricarica elettrica quindi abbiamo anche le nostre soluzioni che inizialmente stavamo anche pensando di dotare i nostri collaboratori delle nostre infrastrutture di ricarica a casa abbiamo anche portato avanti un'iniziativa che abbiamo chiamato sustainability on the road per sensibilizzare le persone su come guidare in maniera eco in maniera sicura quindi con delle pillole settimanali che venivano mandate via mail con un corso con un web based training appunto su come guidare meglio in maniera sostenibile e poi nel 2021 abbiamo deciso di introdurre prima di ogni ordine di ogni vettura ecco tenendo presente che noi abbiamo una car list user chooser quindi i driver entrano e vedono una lista di circa una trentina di vetture composta da macchine che possono essere come dicevamo prima elettriche o full hybrid o diesel e scegliere la vettura che vogliono abbiamo introdotto questa pre-order survey proprio per dire ok secondo il profilo che hai per te è consigliata una macchina elettrica piuttosto che full hybrid piuttosto che diesel per indirizzarlo sulla scelta della vettura abbiamo anche nel 2021 regolamentato la ricarica pubblica a casa e in ufficio la modalità dei rimborsi poi nel 2022 abbiamo fatto un'altra survey con un OEM per valutare a quel punto il potenziale di elettrificazione della flotta e lì i risultati sono stati molto positivi cioè già è venuto fuori un 36% di potenziale dell'elettrificazione della flotta abbiamo quindi aumentato le vetture ai tempi hybrid tra il 2017 e il 2022 ibride plug-in che adesso non abbiamo più ed elettriche nelle carlist però ci siamo resi conto che fino all'anno scorso comunque pur avendo vetture elettriche in carlist nessuno le sceglieva cioè l'ibride plug-in sì perché comunque andavano anche a benzina ma le elettriche no quindi abbiamo fatto una scelta molto importante quest'anno abbiamo detto bene partiamo dai dirigenti i dirigenti avranno una carlist completamente elettrica non potranno scegliere nient'altro che vetture elettriche in primis è stato il nostro CEO che ha ordinato la vettura elettrica quindi ha fatto da esempio e da lì oggi da aprile stanno ordinando solo macchine elettriche abbiamo fatto questo piano di elettrificazione che poi appunto adesso da aprile 2025 tutti quindi anche i non dirigenti dovranno obbligatoriamente ordinare le vetture elettriche questo perché noi facciamo poi contratti a 4 anni e nel 2030 dovremo avere un running fleet completamente elettrico allora quali sono le principali sfide del piano qua vedete l'andamento il piano che abbiamo fatto ecco indicativo che ci porterà è molto graduale nei primi anni perché oggi ancora gli impiegati non hanno l'obbligatorietà di scegliere l'elettrico ma lo stiamo incentivando in modo tale che lo possano scegliere gli unici sono i dirigenti che oggi sono obbligati però poi ci sarà un ramp up da aprile 25 per cui avremo quindi moltissimi ordini elettrici però quali sono le sfide allora innanzitutto gli investimenti perché abbiamo fatto un piano che effettivamente prevede notevoli investimenti sia per poter incentivare le macchine elettriche comunque il noleggio i canoni sono più alti e quindi per riuscire a tenere in carlista le vetture di un certo livello abbiamo dovuto aumentare i contributi aziendali e stessa cosa per anche stimolare gli impiegati a scegliere le vetture elettriche abbiamo deciso di aumentare il contributo per le sole vetture elettriche quindi loro nella carlista avranno una minore trattenuta per le vetture elettriche poi gli investimenti per le infrastrutture di ricarica perché stiamo dotando tutte le sedi di infrastrutture di ricarica in particolare per la sede di Milano stiamo prevedendo adesso un investimento che ci porterà ad avere circa 120 punti di ricarica tra qualche mese con anche poi delle pensiline col fotovoltaico e poi dopo due anni ne avremo altri 170 quindi comunque sono investimenti grossi le altre sfide sono il fatto che mancano gli incentivi se ne parlava anche prima allora le aziende possono fare tantissimo per guidare la transizione all'elettrico però non abbiamo nessun tipo di aiuto e di incentivo la capillarità delle infrastrutture non mi preoccupa tanto la possibilità di ricaricare delle persone che abitano nelle grandi città perché comunque effettivamente le cose si stanno smuovendo ma io ho persone che abitano nei paesini che mi dicono effettivamente ho verificato che non hanno la possibilità di caricare persone che abitano in Val Chiavenna e non hanno infrastrutture di ricarica e io lì obbligarle a dargli la vettura elettrica sto facendo fatica sinceramente c'è l'ansia da ricarica ecco questo è un bel problema stiamo lavorando tanto su questo per tranquillizzare le persone i tempi di ricarica sono un problema più che altro perché allora come dicevo prima ho persone che hanno la macchina aziendale perché effettivamente fanno tanti chilometri escono la mattina presto e tornano tardi la sera sono tempi in più che devono aggiungere ai loro viaggi e tempo in meno per le loro famiglie quindi devono completamente rivedere ma anche noi come azienda noi manager che diamo poi le attività sono tempi che dobbiamo cioè dobbiamo rivedere completamente il lavoro e questo è un cambio culturale importante la ricarica domestica la ricarica domestica ha una complessità oggi su cui ci stiamo scevillando tra gli aspetti fiscali tra le complessità di installare le infrastrutture nei condomini i vincoli tecnici le potenze eccetera questo ci sta generando dei problemi quindi cosa abbiamo fatto grazie al maggior contributo aziendale sono state introdotte carlist vetture con elevate autonomie c'è una vasta scelta di vettura con i migliori brand sul mercato per i dirigenti abbiamo deciso in car policy di introdurre questa cosa c'è un noleggio a breve termine di auto termiche per se ci fossero dei viaggi particolari per cui il driver vede che non riesce a ricaricare per ora non è successo però in car policy l'abbiamo inserito per gli impiegati funzionari c'è appunto questo importante contributo aziendale mi spiace che poi le slide si sono rovinate nell'invio e abbiamo regolamentato la ricarica elettrica sia a casa quindi il fatto di poter rimborsare la ricarica elettrica adesso dovrà essere tassata se non cambia qualcosa nelle location Siemens questo sia anche non solo perché la macchina aziendale ma anche perché la macchina privata per incentivare l'elettrico e per gli ospiti e poi la ricarica pubblica che noi adesso facciamo comunque con un'app con la possibilità di avere quindi comunque di poter ricaricare su tutto il territorio e poi stiamo lavorando molto come dicevamo prima sulla comunicazione interna perché le persone devono essere tranquillizzate quindi abbiamo arricchito la nostra intranet con informazioni sulla guida elettrica sulla modalità di ricarica abbiamo realizzato un vademecum per la ricarica a casa spiegando perché le persone poi non sanno neanche la differenza tra una vettura ibrida ibrida plug-in elettrica i vari modi di ricarica il cavo la colonnina sono concetti che non conoscono quindi abbiamo dato proprio una guida con tutti i suggerimenti utili per poter ricaricare in ambito residenziale e poi abbiamo fatto delle newsletter interne tramite il nostro CEO fatte da noi fatte dalle risorse umane stiamo lavorando tantissimo sulla formazione test drive quindi abbiamo fatto formazione specifica sulle auto elettriche cosa sono le auto BEV le batterie caratteristiche tecniche la ricarica l'utilizzo delle auto BEV con consigli pratici e tecniche di guida abbiamo fatto con tutti i costruttori con cui abbiamo auto in car list dei webinar che spiegano appunto le caratteristiche delle auto e della guida elettrica e poi sono venuti in azienda con le loro macchine in car list per farle testare ai driver e poi ai driver abbiamo chiesto anche di valutare queste vetture e diciamo la guida di queste macchine e poi abbiamo per i driver critici quelli che effettivamente fanno più di 50.000 km anno perché stiamo obbligando anche loro a prendere le vetture elettriche gli stiamo dando la possibilità di fare dei test con l'auto elettrica di più giornate poi abbiamo deciso di creare anche un steering committee ecco perché l'altra complessità è che io lavoro per tutto il gruppo per tutte le società del gruppo quindi ho diversi interlocutori non è un unico CEO e CFO ma ho diversi CEO e CFO diverse società diverse direzioni delle risorse umane quindi alla fine è un progetto che coinvolge molti attori quindi abbiamo deciso adesso di creare questo steering committee per allineare le scelte del gruppo sulla tematica del piano di elettrificazione della flotta poi abbiamo anche creato un gruppo di lavoro dirigenti sales proprio per mettere insieme tutte le criticità legate alla guida elettrica di chi fa tantissimi chilometri e per trovare delle soluzioni stiamo supportando individualmente i driver in fase d'ordine per aiutarli a scegliere l'auto più adeguata in termini di autonomia velocità di ricarica infrastrutture di ricarica oppure anche a supportarli come e dove ricaricare se non si può ricaricare da casa utilizzando le varie app proprio per capire come dove sono le loro le infrastrutture di carica vicino a casa loro e poi abbiamo anche deciso di fare una convenzione per i dipendenti per l'acquisto delle nostre wallbox siemens e del nostro contatore mid ad un prezzo agevolato quindi in conclusione che cosa è importante per noi allora innanzitutto per fare un progetto di questo tipo è importante un forte commitment aziendale e per me è stato molto efficace avere oltretutto un approccio lead by example che ha voluto il mio CEO quindi il fatto che siano prima i dirigenti a far vedere che passano loro all'elettrico e che siano quindi da esempio servono risorse perché comunque servono importanti investimenti economici ma anche di persone perché fare tutto questo richiede un team comunque che ci lavori cross funzionale e che affronti le varie problematiche che si devono gestire ecco invece quello che poi stiamo affrontando un po' tutti insieme anche in queste giornate di oggi la necessità poi di trovare delle soluzioni un po' tutti insieme di una normativa a supporto delle imprese per poter arrivare effettivamente ad avere una mobilità sostenibile perché noi possiamo metterci risorse metterci gli investimenti però cioè da soli non si riesce ecco bisogna avere anche degli aiuti poi noi siamo una grande azienda ci sono anche tante piccole aziende che magari non hanno tutte le risorse che ha un'azienda come noi per riuscire a fare un piano di questo tipo ok grazie lascio quindi all'ultimo relatore Marco Maria Miele di Eschor e a lui chiedo in maniera particolare quali sono le soluzioni che voi avete nel vostro portfoglio per consentire alle amministrazioni di sviluppare poi la mobilità elettrica in silenzio senza senza presentazione non so non ce l'abbiamo buonasera intanto io sono Marco Miele rappresento una start up innovativa che si chiama Ischor Mobility tanto grazie Valentino a Camillo Piazza per l'invito che ci è stato esteso quest'anno siamo la nostra prima edizione siamo una società non grande come A2A come Siemens come Poste ma cercheremo di lavorare con ognuno di voi Ischor nasce da una considerazione non è tanto io vengo da un mondo automotive ho fatto tanti anni anche nel gruppo ex FCA mi sono occupato di sviluppo prodotto relazioni industriali per noi per me la mobilità elettrica è sempre e vengo da una famiglia di sviluppatori di aree di servizio parliamo di agipetroli quindi abbiamo il DNA del rifornimento dell'autotrazione un po' nel sangue la considerazione che abbiamo fatto per questa società che è nata ora vi faccio vedere in pillole perché siamo stanchi e sono l'ultimo come al solito cercherò di non essere pesante ma è un po' un wrap up di tutte le considerazioni che sono state fatte oggi Ischor è una piattaforma non è una società e nasce dalla considerazione di dire noi siamo partiti al contrario veniamo dall'automotive e conosciamo molto bene sia lo sviluppo prodotto dei veicoli commerciali che passeggeri fino ad arrivare diciamo allo sforamento della soglia delle 7 tonnellate fino alle 12 tonnellate gli autobus eccetera Ischor oggi è un CPO è un MSP come ce ne sono ormai non so in Italia credo 11 non siamo grandi come A2A non siamo grandi come NLX ma in pochissimo tempo abbiamo raggiunto dei risultati abbastanza importanti il mantra è che esiste una missione di guida e una prova esperanza di ricarica per ogni segmento qua state parlando di città si è parlato di aziende e esigenze specifiche di soggetti il mantra per noi è ogni veicolo ha una missione di guida o una missione di utilizzo e quindi una missione di ricarica e quindi c'è una complessità dietro che va non tanto solo dal segmento automobilistico ma dalla tipologia di utente che poi ha quel segmento automobilistico dentro una singola azienda ci possono essere 40 tipi di tipologie diverse e quindi 40 tipi di infrastrutture diverse per ricaricare ecco eShore è un CPO un MSP quindi charging point operator la nostra missione è quella di diffondere la mobilità elettrica attraverso investimenti diretti quindi siamo sostanzialmente investitori diretti come tante altre società quindi il nostro core business è l'infrastruttura a servizio con un investimento al 2030 che prevederà al 2000 pardon al 2025 che prevederà circa 3.000 IDR infrastrutture di ricarica a terra tra pubbliche e private il nostro obiettivo è quello di avere circa un 30% sul privato e un 70% sul pubblico perché ovviamente gli investitori come è stato detto nel panel di prima devono essere attenti anche alla quota di energia erogata e quindi alla produttività la redditività di quelle infrastrutture di ricarica e quindi il posizionamento o le difficoltà del posizionamento in ambiti urbani fanno sì che uno poi alla fine non investa o investe in potenze più basse per risparmiare seguiamo un po' il trend del mercato non andiamo su residenziale per motivi già condivisi parlare con un condominio è più difficile che andare a piedi secondo me in Finlandia quindi abbiamo completamente shiftato diciamo il focus su infrastrutture pubbliche e quindi bandi manifestazioni di interesse manifestazioni di interesse spontanee siamo dotati di una siamo una decina di persone oggi quindi in pochissimo tempo abbiamo raddoppiato il personale abbiamo uno studio tecnico interno abbiamo creato un'ingegneria interna come pure una divisione che si occupa solo di bandi e gare per intendersi questo mestiere porta via due risorse a tempo pieno solo per interfacciarsi in fase applicativa con le amministrazioni pubbliche ma in fase esecutiva è un scusate la parola un delirio non sto qua per lamentarmi le attività principali di questa società sono come dicevo prima infrastrutture a servizio quindi un investitore netto di infrastrutture di ricarica pubbliche o private ad uso pubblico ma siamo anche un EPC laddove i soggetti vogliono volessero investire un'azienda di turno che volesse investire ovviamente non si che ha già le tecnologie in casa ci posizioniamo come EPC quindi Engineering Procurement and Construction provvedendo a creare la rete per terzi varie aziende che si sono rivolte a noi sono società ad esempio di gestione di parcheggi che non hanno non fanno quel mestiere non hanno quella peculiarità la terza gamba chiamiamola così è un po' una cosa che ci distingue dagli altri non siamo come dicevo prima veniamo dall'automotive abbiamo fatto il giro al contrario noi abbiamo sviluppato soluzioni nel senso di partnership direttamente con i costruttori ovviamente non me ne vogliano i miei ex colleghi di CNH non sono passato al nemico ma sicuramente uscendo dal gruppo abbiamo intercettato una valanga di marchi nuovi che riescono che l'unico limite che hanno da soli non riescono ogni azienda non riesce a coprire ogni segmento come possiamo fare noi in Europa e quindi sono talmente frammentati e talmente tanti però che in tanti riescono a coprire praticamente ogni segmento della filiera per darvi un esempio quindi Shore è nata è nata come società costituita da SDC Automotive che è una società di advisory appunto che assiste case automobilistiche nell'ingresso nel mercato europeo o italiano come sviluppo prodotto omologativo o semplicemente come riferimento retail siamo il punto di contatto di molte case automobilistiche e alcune di queste ci hanno assegnato il mandato di importazione diretta sul mercato italiano che non è distributivo come è importante per noi dire questa cosa perché appunto ci contraddistingue si è parlato prima di unione dei mondi energy e automotive io ho fatto vent'anni di automotive e la mia famiglia viene dall'energy l'obiettivo della vita era quello di unirli ci stiamo provando ci stiamo provando cercando di dare poi delle soluzioni concrete la rappresentanza il lavorare con queste case automobilistiche ci ha fatto riflettere ma perché non facciamo una società che si occupa e si preoccupa della diffusione diretta in diretta di punti di ricarica non solo pubblici e privati ma anche come soluzioni ai clienti di questi signori che sono le municipalizzate che sono le flotte che è l'utente finale i concessionari eccetera la società era una start up innovativa è stata capitalizzata a dicembre dell'anno scorso da un fondo di investimento strutturale si chiama L&B Capital qui di Milano che fa questo di mestiere investe principalmente in società ad alto potenziale di sviluppo nel settore dell'energy management dell'energetico del fotovoltaico e della mobilità elettrica le soluzioni di qua sono state un po' invertire slide ma una considerazione veloce su quello che è il mercato gli incentivi e quelle che sono le soluzioni che noi proponiamo il mercato in Italia si è contratto abbiamo perso 600.000 unità post pandemia si sta riprendendo il mercato ma sostanzialmente diesel e come mercato generale dei veicoli commerciali intendiamo qui dal triciclo all'autobus quindi non c'è una segmentazione specifica però sostanzialmente si consolida la quota di vecchi carburanti alternativi GPL e metano mentre scende diciamo considerevolmente l'impiego di diesel e benzina gli ibridi non ne parliamo neanche mi dispiace che avete fatto anche la prova qualcuno avrebbe dovuto dire di non usare i plug-in hybrid anche se insomma li serviamo come punti di ricarica gli elettrici nel mondo degli LCV e qui stiamo segmentando invece diciamo fino ai 7 7 tonnellate e mezzo pardon fino ai 7 e mezzo up to 12 tonnellate di payload sono sostanzialmente cresciuti esponenzialmente con quote sempre bassissime non andiamo sui segmenti Stralis 4,20 4,70 non andiamo lì ma ecco un passaggio da 1.200 veicoli a 4.200 in un anno non sono pochissimi considerando che sì c'è stato lo stop dei produttori per vari motivi di logistica per vari motivi di chip per vari motivi di batterie shortage di supply ma comunque sia c'è stata una spinta incredibile su quelli che sono l'impiego dei veicoli commerciali a trazione elettrica registriamo perché vi sto dicendo questo stiamo facendo un focus su flotte e municipalizzate ovviamente il target che abbiamo è anche la colonnina per strada come diciamo prima però dov'è che il consumo per chi investe in una colonnina è importante oltre che sul pubblico nella città di Milano là dove c'è un consumo permanente è un consumo diciamo rutinario anche se poi va tariffato questo consumo quindi i veicoli commerciali per noi sono importantissimi e quindi cerchiamo di supportare sia nel pubblico che nel privato l'impiego di flotte nei vari segmenti di veicoli commerciali ovviamente proponendo le soluzioni di infrastrutture di ricarica a servizio come un tool a supporto molto importante ai fini della commercializzazione di questi mezzi che è come se regalassi l'impianto carburante a chi mi compra il camion a gasolio è una cosa che in pochi fanno molti carmaker danno la colonnina sul sedile dell'auto non danno l'infrastruttura al fluttista se non ATM nei vari bandi che aveva fatto almeno questa è l'esperienza che abbiamo visto noi registriamo e quindi che c'è una spinta enorme verso l'utilizzo e verso la necessità di impiegare i mezzi elettrici soprattutto perché il 41 è emerso questi dati li prendiamo da un RAE o da ACE ha emerso che più del 40% dei veicoli impiegati dalle flotte municipalizzate in Italia hanno intanto maggiore 17 anni ma poi sono Euro 4 cioè stiamo girando con roba che non è inquinante molto di più non ha neanche diciamo le normative capisco posso capire l'Euro 5 l'Euro 6 ma l'Euro 4 insomma sono gli step di sviluppo powertrain un po' anche arretrate in parallelo c'è un paradosso nel senso non si sta applicando come si dovrebbe laddove esistono gli incentivi mi permetto alla dottoressa Baledotti di rispondere gli incentivi in Italia esistono esistono in maniera timida e non esistono nel punto della nostra conclusione non esistono in maniera organica voi comprate auto a noleggio è il noleggiatore che compra le auto da chi le vende è quello che ha venduto e che ha preso l'incentivo a voi non mi arriva se non come sconto del bonus che prende chi ha venduto l'auto che tra l'altro è un credito d'imposta ma a voi vi arriva un percentuale molto bassa sulla rata poste idem quindi non siete diciamo per le infrastrutture elettriche adesso ci arriviamo infatti ci dovrà essere quindi coalizziamoci perché assolutamente non esiste non esiste questa forma di omogeneità l'analisi circolante qui facciamo però un'altra considerazione qui sembra che vendiamo mezzi non vendiamo auto investiamo in infrastrutture di ricarica però quasi il 50% dell'impiego di questi mezzi è a noleggio o in leasing questo fa riflettere su due cose il primo è che il possesso di una c'è la missione dell'auto elettrica ma c'è anche il possesso di un mezzo sono cambiati sono cambiati sta cambiando la normativa la regolamentazione anche della distribuzione di auto sul mercato sta cambiando da mandati distributivi ed agenziali sta cambiando un po' il mondo del retail e il mondo del retail che accompagna aziende o gare pubbliche o società campioni nazionali si sta muovendo di conseguenza gli incentivi come dicevo prima su flotte N1 nel senso N1 N2 andiamo a ragionare appunto sui vicoli commerciali quindi qui vengono esclusi i quadricicli pesanti quadricicli leggeri vengono esclusi le auto dove però esistono incentivi di 3.000 4.000 euro a livello governativo non vado nella diciamo nella poi nella diciamo nella regionalità dell'incentivo la regione Lombardia è stata quella che ha dato più impulso nella prima mandata di 3-4 anni fa al diciamo al supporto addizionale all'impiego di auto elettriche qui è uno snapshot che fa vedere che esistono degli incentivi per le aziende per le flotte in acquisto ovviamente fino a 14.000 euro cioè 14.000 euro un 7 tonnellate è qualcosa che va a servire la logistica non dell'ultimo miglio ma la logistica media cioè medio pesante esattamente esattamente per il quadro e la scuola bus noi lo stiamo seguendo perché ovviamente qui noi aspiriamo siamo in contatto con case automobilistiche che abbiamo supportato una è Carsan Turchi con prodotti elettrici da 8 metri 12 metri siamo in contatto con realtà italiane di cui non faccio il nome per motivi di confidenzialità quindi stiamo seguendo anche quella che è l'evoluzione del mercato di scuola bus dove sono arrivati tanti soldi del PNRR dove c'è tanto fermento peccato che non ci sono i modelli non ci sono i prodotti siamo andati a verificare e uno scuola bus o viene messo sul mercato diciamo fatto finito comprato dal diciamo dell'operatore oppure è un mestiere fatto di quattro soggetti cioè soggetti che mettono sul mercato mezzi chassis cab e ci costruiscono sopra lo scuola bus non parlo di veco e non me ne vogliate ma queste sono realtà italiane noi stiamo interfacciando con tre operatori sul mercato uno è Campello Motors che voi conoscete perché sta mettendo sul mercato la YoYo la XEP se ne è parlato prima come macchinina di punta nel car sharing urbano noi siamo stati supporter con la realtà cinese perché veniamo da quel mondo lì siamo stati fautori di Photon Photon è un marchio che è entrato in Italia un anno fa tramite un importatore toscano che è il gruppo Pretto sono operatori dimensionalmente rispetto a realtà corporate più piccole ma più dinamiche più veloci nell'interlocuzione e nella ricezione di opportunità da parte del mondo esterno quindi produttori che entrano in Europa con soluzioni che costano molto poco e che hanno una decenza di utilizzo cioè qualitativamente ottimi capacità di batterie qua si parla questo mezzo si parla di 83 kilowattora di batteria è stato già testato da società di logistica tra l'altro qua nell'interna milanese a pieno carico andiamo su 230 240 NDC non WLTP quindi abbiamo già fatto anche le prove di carico ovviamente in tutte queste diciamo casistiche e-shore si pone come provider ora qui stiamo degenerando nella casistica delle auto ma e-shore si propone come solution provider di infrastrutture di ricarica di soluzione di ricarica con investimento diretto vi faccio vedere questa è tra l'altro stiamo per parlare con Cargopost e vorremmo approcciarvi perché questo è un quadriciclo leggero con 16 kilowattora di batterie è un'altra cosa che non abbiamo detto cosa fa la ricarica l'uovo o la gallina la colonina si ma neanche l'auto l'auto in AC è l'homboard charger che comanda lo standard dell'homboard charger adesso è intorno agli 11 kilowatt quindi il dimensionamento di colonie di infrastrutture di ricarica deve essere commisurato alla missione ma anche a quello che è la tipologia del mezzo quindi soluzioni che noi stiamo usando per accompagnarci nella value proposition di investimenti in infrastrutture di ricarica attraverso l'accoppiamento l'affiancamento di flotte abbiamo creato due divisioni come vi dicevo noi abbiamo l'obiettivo di mettere a terra 300 3 mila punti di ricarica la metà più o meno al nord un 30% al centro d'Italia e il restante al sud la tipologia di infrastrutture che mettiamo a terra va dalla quick come vi facevo vedere prima la vecchia fast della 22 arriviamo alla 300 e fino adesso le esperienze che abbiamo fatto arrivano alla 150 per elettrificare flotte captive quindi noi stiamo spostando l'attenzione dai commerciali abbiamo una rete di agenti ovviamente molto sprint diciamo così dove noi non vendiamo infrastrutture noi maturiamo concessioni ai fini dell'erogazione di un servizio di ricarica stiamo spostando il focus da il bando pubblico o la manifestazione di interesse o l'interlocuzione con il comune stiamo spostando il focus totalmente in un altro modo stiamo andando a cercare bandi integrati cioè dove si parte dalla flotta non solo di autobus ma si arriva all'esigenza di mettere a terra infrastrutture di ricarica per quella flotta e allora ci stiamo muovendo con comuni nel Veneto dove sostanzialmente per operatori come noi facciamo bingo in una volta sola operatori vi faccio un esempio banalissimo la consegna pasti per gli anziani la consegna il trasporto persone per le badanti il trasporto merci la smile di soggetti legati apposte ma che gestiscono poi diciamo l'ultimo miglio e quindi servizi più provinciali o regionali ecco lì noi provvediamo attraverso project financing attraverso accordi di diverso tipo o natura rispetto alle concessioni di dare una soluzione quindi sia veicolare che di infrastrutture mi taccio credo di aver detto tutto grazie e diciamo che dalla tua presentazione si capisce anche perché si capisce anche perché sei stato messo all'ultima e perché di fatto hai riassunto tutto ciò che abbiamo raccontato spero nell'ambito dell'intero pomeriggio rispetto a proprio a una concentrazione di sviluppo di servizi che vi vedono se posso se posso aggiungere perché poi con diciamo con l'emozione del parlare uno si scorda le cose quello che vediamo e quindi per rispondere anche per per integrare quello di ciò prima gli incentivi ci sono il governo o i governi precedenti qualcosa l'hanno fatta qualcosa manca un coordinamento generale cioè qui stiamo andando troppo a vedere o la città o l'azienda in sé ma non stiamo capendo che qui c'è bisogno di un'azione trasversale cioè ripeto ogni mezzo ogni veicolo ogni tipologia di mezzo ha bisogno della sua esperienza di ricarica ognuno di noi ha bisogno di un vestito la mattina ha una taglia ha una missione ha ha un'elasticità ha un modo di fare diverso così è con i segmenti con le auto e con quello che le auto elettriche devono fare tutti i giorni stiamo facendo una gara non posso dire dove perché non l'abbiamo vinta ma insomma siamo nel Ligure dove le colonie di ricarica le infrastrutture di ricarica con un bando che abbiamo vinto sono 12 infrastrutture di ricarica nel comune di Genova e ora lo dico perché abbiamo penato beh il provider l'AMIU di Genova indirettamente ci viene a dire beh ma io queste colonnine sì ci faccio caricare Marco Mele ci faccio caricare Silvia ma io posso far ricaricare anche il compattatore di igiene stradale che comunque sia hanno temi di ausiliarità diversa cioè la mission di una colonnina non per diciamo andare contro la 2A che ha fatto una politica molto interessante le 7 KW ma io la voglio dare anche a operatori diversi dal singolo guidatore di una LIF o di una macchina per strada quindi sono tutti i ragionamenti che noi stiamo iniziando a fare con i comuni noi applichiamo da inizio anno abbiamo applicato 78 bandi tra cui uno anche quello del bando post famosissimo che però si scompone colonnine e colonnine auto auto noi stiamo applicando su bandi dove non c'è riportato cioè viene chiesto ok l'infrastruttura di ricarica è questa il dimensionamento è questo la localizzazione è questo il progetto tecnico computometrico eccetera eccetera poi in fondo in fondo c'è scritto ma il 50% di quello dove applichiamo quindi bandi pubblici visionabili su piattaforme diciamo start in fondo quindi si va a punteggi punteggio finale extra cioè extra può voler dire tutto e niente noi stiamo andando là a dire l'extra sono le auto quindi non c'è un'omogeneità di domanda diciamo soprattutto dagli enti pubblici di infrastrutture insieme a vetture abbiamo vinto una seconda gara l'altra settimana in Toscana su un comune limitrofo molto esteso limitrofo vicino Firenze dove ci chiedono ecco la macchinina vi faccio un esempio stupido la macchina di prima per la pulizia municipale questo è un mezzo non passeggeri perché non è omologato noi ci occupiamo anche dell'omologazione e della trasposizione omologativa perché sono tutti i mezzi che vengono già omologati in Europa per la pulizia municipale quindi ci chiedono di integrare iniziano a chiederci l'integrazione ma non sanno gestire il bando cioè come facciamo che invece segue per le auto tutt'altro canale MEPA o insomma il collega di Milano ne saprà con Gupil visto che state facendo un percorso simile quindi insomma ecco se posso non in spirito polemico però dire quello che penso qua secondo me bisognerebbe senza lo spettro del cinese che arriva perché questo si applica soprattutto alla realtà italiana e alla realtà italiana che ne abbiamo anche tante ma ecco complementare incentivi su colonnine e incentivi su auto l'ultima cosa incentivi su colonnine ci sono ma sono incentivati solo alcune tipologie quindi autostrada off highways PNR è quello che sono lì e tra l'altro anche assegnati in maniera andiamo a vedere poi come sono stati assegnati però ecco hypercharger fastcharger qua c'è bisogno esattamente i miei dipendenti che vogliono ricaricare a casa non riescono scusate non riescono adesso ad avere anche loro incentivi perché adesso è uscito il decreto autotivo per gli incentivi ma si tratta di interventi già fatti quindi anche loro se vogliono avere la certezza di poter avere un incentivo non riescono quindi è complessa la cosa poi è la prassi autorizzativa l'incentivo residenziale che non fa la società esatto diventa diventa bene allora abbiamo concluso chiedo un altro applauso a tutti mi scuso per essere andati lunghi però vedo che la sala è ancora piena quindi questo vuol dire che rispetto a quello che io avevo detto a Camillo che vedo adesso in fondo alla sala che pensavo che a una certa ora sparissero tutti probabilmente i temi hanno dimostrato i temi hanno dimostrato un certo interesse quindi Camillo non so se vuoi dire qualcosa in conclusione la presenza dell'impresa che anche qua in questo convegno hanno dimostrato che ci sono quindi il mercato a prescindere dal fatto che siamo in ritardo per quanto riguarda le questioni collegate al Pignec però almeno abbiamo la possibilità di recuperarlo questo tempo perso Emov adesso stiamo concludendo la carta di Emov adesso con Valentino il comitato scientifico faremo in questi giorni una riunione per definirlo in maniera completa e poi manderemo le richieste che sono uscite anche durante i convegni a tutti i parlamentari a tutti i comuni a tutti i stockholder la governance sperando che qualche nostro punto programmatico venga inserito all'interno delle finanziarie e soprattutto venga portato avanti perché altrimenti rischiamo di perdere occupazione credibilità come è successo per la Manite Marelli quindi ringrazio tutti alla prossima tu sei tu sei arrivato un attimo dopo alla fase conclusiva in cui i relatori hanno evidenziato una necessità di coordinamento nazionale sul tema degli incentivi sul tema dello sviluppo e in realtà io ti avrei portato questo messaggio però visto che sei qua te lo dico direttamente infatti la cosa che bisogna fare casomai come abbiamo fatto anche negli anni passati è organizzare a novembre una riunione più operativa con il relatore e altre cose per capire se nel modifica che è nella declinazione della carta di Emov ci sono altri punti da inserire e soprattutto avendo noi mi raccomando i organizzatori comune regione e camere di commercio dove il comune e regione possono dire qualcosa io prima su è venuto l'assessore trasporti e mobilità che a differenza del governo centrale ha dimostrato molto più interesse quindi vuol dire che con la regione Lombardia che non è l'ultima regione del carro ne possiamo in qualche modo lavorare quindi dico ai relatori che da parte nostra del comitato scientifico lui è il coordinatore del comitato scientifico insieme a Motuse e RSE siamo a disposizione di tutti e quindi io farai così se sei d'accordo Valentino organizzare un incontro anche con i tuoi relatori ma anche con gli altri relatori a novembre per andare avanti il percorso perché E-Mob non è questo evento E-Mob l'evento è soltanto una conclusione di un percorso con molti di voi per esempio con Scami ho messo una vita andiamo avanti durante l'anno perché è durante l'anno che si bisogna fare le attività soprattutto per il fatto che E-Mob ha circa 160 165 comuni sopra 20.000 abitanti che hanno sottoscritto la carta metropolitana che l'ha fatto lui Valentino quindi noi abbiamo 165 comuni sopra 20.000 abitanti che rappresentano circa 20 milioni di abitanti in Italia che aspettano delle indicazioni che aspettano delle osservazioni e da loro riceviamo anche le cose belle per esempio una cosa carina è che quando fanno delle delibere virtuose li mandiamo a tutti gli altri comuni perché in Italia purtroppo quando fai una bella cosa non ti dicono che è bello che è bello ma chi l'ha già fatta perché il senso di responsabilità della pubblica amministrazione e dei comuni è quasi zero quasi zero quindi la domanda principale quando noi facciamo attività di dissemination sulle cose virtuose e belle e ti chiede chi l'ha fatto ovviamente per esempio la delibera che di norma la fa lui per il comune di Milano io riprendo li mando agli altri comuni e il nostro lavoro principale è fare i benedettini cioè cambiare il frontespizio della giunta quasi quasi faccio anche la delibera di giunta un po' di esperienza ce l'ho e fare in modo che loro poi lo portano in consiglio comunale quindi la cosa che in Italia purtroppo manca anche è il senso di responsabilità che in teoria le pubbliche amministrazioni devono avere che non ce l'hanno quindi il nostro lavoro come mob durante l'anno è questa di far fare copia e incolla rispetto alle cose belle che si fanno e molti comuni poi le fanno ce le comunicano e noi mettiamo in rete questa roba quindi da parte il messaggio che avete dato Valentino io sono contento che avete dato e Valentino organizzerà l'incontro a novembre con tutti i suoi relatori per poter in qualche modo affrontare questi argomenti grazie alla prossima arrivederci grazie 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 grazie